Buongiorno a tutti, ben trovati, ben collegati, buongiorno mi presento, io sono Sara Pagliai, sono la coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, vi do il benvenuto oggi a questo Info Day che è dedicato al mondo dell'educazione degli adulti, quindi tutte le opportunità di questo settore dentro il programma Erasmus Plus con un focus oggi su quelle che sono le opportunità della mobilità alla soglia di una nuova scadenza che ci proietta già verso il prossimo anno e questa scadenza è appunto quella dell'accreditamento, quindi una nuova modalità, una nuova opportunità per poter usufruire delle mobilità Erasmus e per farlo nella maniera, si spera, più semplice, soprattutto più efficace, che permetta davvero a molti di noi, a molti soprattutto appunto di voi che siete sul campo, quindi come organizzazioni, come CIPIA, come centri di formazione per adulti, di partecipare. Dicevo che questa scadenza ci proietta davvero nel 2022 perché in realtà questo anno, questo 2021 che ha visto l'esordio di Erasmus 21-27, questo programma che porta un incremento forte di risorse in termini finanziari da parte dell'Unione Europea è avviato, è partito da qualche mese, ma questa scadenza appunto già guarda a quelle che sono le mobilità del 2022. Il nuovo programma, dicevo, ha un forte incremento finanziario, in qualche modo già lo avvertiremo in questo secondo anno 2022 per poi andare via via crescendo. Ricordo che siamo passati da un investimento di 14.7 miliardi di euro a oltre 26 miliardi e anche il settore dell'educazione degli adulti che da sempre è stato un po' il settore più piccolo di questa programmazione avrà altrettanto, diciamo, crescita e un proporzionale incremento. Il programma nuovo insiste su delle priorità che sono molto forti, molto, diciamo, ben delineate che tutto sommato riguardano un po' in senso trasversale tutta la programmazione dell'Unione Europea e se volete anche tanto di quello che è il piano di Next Generation EU. Vale a dire il nuovo programma intende investire molto sull'innovazione digitale, sulla partecipazione, sulla partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione Europea. Il programma investe su azioni green, quindi anche la mobilità di cui parleremo oggi con una valenza, se possibile e quando possibile, anche più ecologica, con meno emissione di anidride carbonica. E l'altro punto che sottolineo, l'altra grande priorità, perché dal mio punto di vista è una priorità che si sposa perfettamente con questo settore, che è quello dell'educazione degli adulti, è l'inclusione sociale. Quindi il programma Erasmus, attraverso anche proprio una strategia molto attenta e che vuole in maniera capillare arrivare soprattutto a coloro che hanno meno opportunità, anche meno opportunità di partecipare, porterà avanti appunto un piano strategico di inclusione sociale. Questo appunto attraverso varie azioni. Da una parte appunto la semplificazione, quindi cercare di rendere l'accesso a questo programma il più semplice possibile e dare anche chance a chi non ha grande esperienza da un punto di vista progettuale europeo di partecipare. E oltre a questo per il settore dell'educazione degli adulti introduce una misura del tutto nuova che è quella della mobilità dei discenti adulti, soprattutto di quegli adulti che si trovano in condizioni svantaggiate e con scarse competenze, quindi low skilled. Tutto questo appunto verrà oggi ben illustrato dai colleghi che ringrazio per essere qui insieme a me oggi, in particolare la dottoressa Lorenza Venturi che è a capo dell'unità di educazione degli adulti per l'Italia e nella nostra agenzia, ma insomma da tutti i colleghi che interverranno e che sono sicura daranno a voi tutte le informazioni tecniche e il supporto oggi e nei giorni che verranno per fare in modo che appunto il settore dell'educazione degli adulti cresca nella sua partecipazione dentro il programma Erasmus. Devo dire che nel nostro paese che è in Italia la partecipazione anche per questo settore che ripeto forse è il più piccolo del programma Erasmus è stato per noi sempre un settore molto attivo, molto attento che da sempre diciamo ha ben risposto a tutti i bandi europei. La mia speranza e un po' l'augurio che faccio a tutti è che la platea dei nostri beneficiari si vada sempre più ad allargare e che appunto proprio per venire incontro a quello che è questo obiettivo politico così importante quale l'inclusione sociale si possa avere sempre di più la partecipazione soprattutto di quelli che noi chiamiamo i cosiddetti newcomers vale a dire coloro che non hanno grande esperienza e che è la prima volta che si affacciano al programma Erasmus. Quindi dando voce spero anche a tante piccole realtà, piccole organizzazioni che però sono attive nei vari territori e che grazie anche alla cooperazione e alla mobilità in ambito europeo possano davvero crescere, far crescere il proprio staff e quindi dare una migliore formazione allo stesso ma soprattutto che possano così permettere la mobilità e la mobilità dei discenti adulti. Quindi vi ringrazio, non vi rubo altro tempo a tutte le informazioni che saranno sicuramente tanto utili e lascio la parola a Lorenza Venturi e a tutti i colleghi. Grazie, grazie mille. Grazie mille Sara, grazie di queste parole di apertura che appunto hanno introdotto e sottolineato tutti i punti più importanti e proprio appunto le priorità. Io mi presento, anch'io sono Lorenza Venturi come ha detto Sara, sono da quest'anno capo unità del settore appunto dell'educazione degli adulti in Erasmus+, con qualcuno forse ci conosciamo già perché lavoro in agenzia da molti anni dove fra l'altro dal 2015 sono capo unità anche della piattaforma Epale, la piattaforma appunto Electronic Platform for Adult Learning di cui diremo due parole anche dopo e quindi la piattaforma che pensiamo possa essere ancora più integrata a supporto del programma. Oggi siamo qui appunto per supportarvi nella candidatura all'accreditamento che è sicuramente un'opportunità interessante da accogliere perché permette di lavorare sul lungo periodo, una progettazione più pluriennale fino alla fine del programma, quindi davvero con uno sforzo insomma non troppo grande ci si assicura un lungo periodo di lavoro in dimensione europea. Ovviamente vi ricordo che questo video sarà registrato e sarà comunque reso disponibile sulla piattaforma, sul nostro sito quanto prima, quindi lo potete rivedere anche e condividere. Fra l'altro nella sostanza è fondamentalmente simile a quello che abbiamo fatto appunto nella prima occasione dell'accreditamento. Nell'autunno scorso abbiamo pensato che fosse utile rivedersi in prossimità della scadenza, ripercorrere insieme le tappe ed essere qui soprattutto per le vostre domande che potrete fare alla fine. Io adesso vado a condividere alcune slide e fondamentalmente, ecco spero che le vediate altrimenti chiedo alla regia di segnalarmelo e fondamentalmente è un po' quello che ha già detto appunto la coordinatrice Sara Pagliai, però sulle priorità vale veramente la pena di insistere, ecco quindi niente Erasmus è il programma, programma simbolo, il programma che ha creato una generazione, il programma che promuove appunto la solidarietà, la mobilità in un'Europa come spazio di pace, di libertà e di opportunità. Queste sono le parole della Vice Presidente della Commissione Europea e non sono solo parole perché appunto come avete visto rispetto ai precedenti sette anni il budget è quasi raddoppiato a testimonianza di quanto la Commissione Europea crede in questo programma che davvero cambia la vita delle persone e offre maggiori opportunità e va bene, iniziato dal 1987 abbraccia tutti i settori e quindi appunto l'educazione degli adulti e sono ormai più di 10 milioni gli europei che ne hanno beneficiato per lavorare, per studiare, per fare volontariato all'estero. ma veniamo appunto al momento contingente soprattutto anche a quelle che sono le sfide sociali per l'Unione Europea post, in realtà siamo ancora durante ma insomma in conseguenza del Covid che ha acuito le diseguaglianze sociali come ben sapete voi che lavorate a contatto con tutta una serie di destinatari, di target particolarmente fragili e ha avuto soprattutto anche un impatto grave sull'istituzione e sulla formazione, quindi le sfide che dobbiamo affrontare a breve e a lungo termine sono la creazione di posti di lavoro, la ripresa economica, senza dimenticare però di rafforzare l'acquisizione e l'inclusione sociale, tema importantissimo affrontare il cambiamento climatico e la sostenibilità e stare al passo con le nuove tecnologie e poi insomma ultimo ma non meno importante ripristinare nelle persone la fiducia nel progetto europeo, forse insomma questa crisi ha riportato un po' sotto le luci l'Unione Europea che era un po' defilata, insomma invece questa risposta compatta e unica ci siamo schierati proprio come Unione fortemente uno a fianco dell'altro anche nella lotta al Covid e questo dimostra quanto è importante essere uniti e reagire insieme a tutte le crisi, quindi nelle parole appunto della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen soprattutto vorrei citare, non è scritto nelle slide ma quello che è un po' il suo motto, non lasciare indietro nessuno che poi è anche spesso ripreso dal nostro Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e che ben si adatta al nostro settore. Quindi per quanto riguarda l'inclusione sociale appunto in un doppio aspetto, nel sostenere proprio la partecipazione al programma da parte dei soggetti, di tutti i soggetti svantaggiati, vedremo poi meglio nel dettaglio ma come abbiamo visto anche i discenti adulti con minori opportunità che poi possono essere minori opportunità in termini geografici, economici, sociali, personali, di appartenenza, di ceto eccetera quindi insomma sono molto diversificati e proprio una partecipazione più inclusiva anche semplificando l'accesso e poi andando a sostenere una serie di progetti che lavorano proprio su questi temi. Per quanto riguarda l'innovazione digitale è ovviamente chiaro a tutti, ancora più dopo questo ultimo anno e mezzo, quasi due, quanto sia vitale e necessario mettere in grado tutti di non restare indietro, di partecipare a questa rivoluzione digitale per la quale ormai tutto quello che dobbiamo fare praticamente passa attraverso uno schermo e quindi accrescere le competenze digitali dei docenti e dei discenti. Vi raccomando la lettura del Digital Education Plan della Commissione Europea che traccia proprio l'orizzonte di riferimento di quelli che saranno gli scenari futuri. E poi appunto la terza priorità che ritroviamo in ogni settore del programma ma non solo, anche proprio al cuore delle strategie europee in tutti i settori è la sostenibilità, il Green Erasmus e quindi lavorare sulla sensibilizzazione al cambiamento climatico, alle tematiche ambientali e quindi appunto lavorare su questi temi e lavorarci allo stesso tempo già in maniera ecologica, quindi adottare degli stili di vita anche nella gestione proprio dei progetti, anche nelle mobilità come vedremo è previsto proprio un supporto specifico per chi sceglie un mezzo di trasporto a minore impatto ambientale, dicevo appunto adottando scelte ecologiche. Vi faccio un ultimo riferimento a quello che è lo spazio europeo dell'educazione 2025 come è stato delineato in una comunicazione dello scorso 30 settembre dove come già è avvenuto diciamo nell'istruzione superiore così a tutti i livelli dell'educazione quindi nella scuola e anche nell'educazione degli adulti si intende rafforzare proprio il ruolo della cooperazione europea per migliorare qualità e inclusione digitale dei sistemi educativi degli stati membri e garantire proprio a studenti e insegnanti la libertà di apprendere e lavorare in tutto il continente e altresì alle istituzioni di associarsi liberamente tra loro in Europa e oltre. quindi sono cinque grandi obiettivi, la mobilità diviene la norma io posso studiare, farò scuola in un paese, poi prendo una maturità, vado a fare l'università in un altro paese poi faccio dei percorsi via via di formazione in servizio ancora in un altro e questo è assolutamente normale quindi rimuovere tutti gli ostacoli che ancora in qualche modo in parte impediscono questo quale ad esempio il riconoscimento delle qualifiche, il riconoscimento delle qualifiche le qualifiche dovranno essere riconosciute automaticamente come potete immaginare per questa mobilità è necessaria una conoscenza delle lingue che è ancora questo un obiettivo che l'Unione Europea si è posta da Barcellona, Consiglio di Barcellona 2002 ma che ancora non è stata messa in atto ma si rilancia con vigore la conoscenza della lingua madre più due lingue straniere più due lingue straniere che non devono essere necessariamente altre lingue europee è molto importante e lo dico anche per chi ha a che fare quotidianamente con ad esempio studenti, migranti eccetera anche la valorizzazione della propria lingua madre o della lingua del paese di origine se diverso appunto dall'Italia inoltre migliorare e garantire una qualità un'istituzione di qualità per tutti e valorizzare l'identità europea il patrimonio culturale e la sua diversità quindi io ecco ho fatto solo due parole così generali di introduzione passo mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione e passo adesso la parola ai colleghi in particolare ad Elisabetta Cutrale che saluto e che ringrazio di essere qua insieme agli altri per voi e che vi illustrerà un po' le specificità dell'accreditamento salve a tutti buon pomeriggio e bentrovati io sono Elisabetta Cutrale e insieme a Marilena Spezzano, Daniele Carboncini e Alessandro Casarrubea siamo il team dell'azione chiave 1 mobilità per l'apprendimento nel settore dell'educazione degli adulti inizierò appunto questa presentazione introducendovi il nuovo programma in particolar modo appunto mi soffermerò sull'accreditamento vado a condividere le slide la regia mi può dare conferma che le ho condivise bene ok perfetto dunque il nuovo programma Erasmus+, prevede una programmazione appunto che va dal 2021 al 2027 e le basi diciamo di questo programma sono soprattutto l'azione chiave 1 che riguarda la mobilità per l'apprendimento che per l'appunto è l'azione che prenderemo in considerazione questo pomeriggio l'azione chiave 2 che considera appunto e riguarda la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni e inoltre l'azione chiave 3 che è un sostegno alla definizione delle politiche è importante considerare che queste diciamo azioni si inseriscono nell'importante obiettivo voluto dall'Unione Europea che è quello di creare una diciamo di migliorare il sistema di istruzione all'interno dei diciamo dei paesi membri attraverso proprio la creazione di uno spazio unico europeo per l'istruzione che possa permettere la formazione, lo sviluppo professionale proprio dei diciamo del personale che opera all'interno appunto del mondo dell'istruzione stessa questo ovviamente apporterà un grande contributo in termini diciamo di crescita sostenibile di possibilità di creare nuovi posti di lavoro anche di qualità e nonché soprattutto il rafforzamento diciamo della proprio dell'identità europea in particolare ecco l'azione chiave 1 è un'azione che promuove e appunto vuole promuovere il miglioramento dell'istruzione, della formazione e anche diciamo sostiene l'internazionalizzazione di tutti quegli enti che sono attivi nel campo dell'istruzione degli adulti questo proprio tramite la possibilità di effettuare le mobilità quali mobilità possono essere effettuate? la mobilità dello staff ovvero mandare il proprio diciamo gli operatori degli enti e delle organizzazioni e quindi il proprio staff in un altro presso appunto un partner estero per svolgere ecco delle attività oppure la mobilità dei discenti adulti che è proprio la grande novità dell'ultima programmazione Erasmus che prevede proprio questa nuova mobilità dei discenti adulti che può essere una mobilità diciamo può essere spettata come una cioè una mobilità appunto dei discenti adulti che scusate una novità ecco dell'ultima programmazione e può essere effettuata diciamo una mobilità individuale oppure di gruppo per diciamo per accedere a queste opportunità e quindi per presentare un progetto occorre ovviamente candidarsi quali sono le opportunità? intanto effettuare una richiesta di accreditamento che è più che altro è che è una possibilità per quegli enti e per quelle organizzazioni che desiderano proprio organizzare ecco delle attività di mobilità con una certa regolarità questo perché perché l'ente accreditato avrà la possibilità sarà accreditato appunto che riceve l'accreditamento potrà per diciamo sarà accreditato per sette anni e quindi diciamo avrà il vantaggio di poter quindi di poter di avere appunto di organizzare ecco queste mobilità per un periodo di sette anni in quanto il progetto verrà appunto valutato giuomo solo una volta e poi ovviamente la possibilità di presentare una candidatura per le mobilità appunto di breve durata più che altro queste mobilità sono mobilità che prevedono appunto attività di mobilità per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi è inoltre possibile per le per gli enti e le organizzazioni poter partecipare al programma senza effettuare senza appunto presentare una candidatura questo attraverso appunto due canali fondamentali innanzitutto attraverso diciamo la possibilità di partecipare come membro di un consorzio ovvero membro di consorzio di un ente che ha ottenuto l'accreditamento cioè se un ente consorziato e consorziante ha ottenuto appunto l'accreditamento può coinvolgere ovviamente coinvolgerà altri membri di consorzio e quindi avranno questi enti avranno la possibilità di partecipare senza presentare la candidatura oppure ci si può appunto offrire o proporre commenti ospitante lo staff o i discenti di partner esteri che mandano in mobilità presso di voi il proprio staff appunto i propri discenti. A tal proposito è importante soprattutto ecco aprire una parentesi su quali sono ecco i paesi presso i quali potete inviare e potete organizzare le mobilità e quindi inviare il vostro staff e la diciamo o i discenti. Innanzitutto sono ecco ovviamente i paesi membri dell'Unione Europea poi abbiamo parteciperanno al programma anche paesi che non aderiscono all'Unione Europea e che sono ovviamente questi sei paesi considerati appunto in questo riquadro giallo è un discorso a parte merita il Regno Unito come sappiamo infatti a seguito diciamo della Brexit il Regno Unito ha deciso diciamo di è fuori ecco non è più paese membro dell'Unione Europea però non è non solo ha deciso ecco di non far parte dell'Unione Europea ma è anche un paese che ha deciso di non aderire al programma quindi è importante che teniate appunto in considerazione che oggi appunto il Regno Unito è un paese terzo. Sono informazioni comunque che troverete anche nella guida al programma ma che è importante prendere in considerazione. L'ente è l'organizzazione che decide di inoltrare una candidatura, di inoltrare appunto la candidatura deve tenere conto e questo è importante di quelle che sono le priorità del programma. Questo perché? Perché fondamentalmente l'organizzazione, il partecipante e quindi l'organizzazione che partecipa deve promuovere attraverso le proprie attività queste priorità e quindi le priorità diventano lo scopo e l'obiettivo del vostro della partecipazione ma diventano anche diciamo delle tematiche che devono far parte del vostro progetto e dunque quali sono queste tematiche fondamentali? Innanzitutto l'inclusione e la diversità. Quando parliamo di inclusione e la diversità intendiamo le pari opportunità, intendiamo l'equità, il mettere al centro sicuramente le persone che hanno minori opportunità attraverso proprio la creazione di una strategia per l'inclusione e la diversità. Inoltre la transizione digitale sicuramente e quindi la necessità di sfruttare il potenziale della diciamo delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e della formazione. Del resto la pandemia che stiamo vivendo ha proprio messo in evidenza l'importanza di queste diciamo di questa di questi mezzi e proprio della dell'istruzione digitale e poi la grande tematica ambientale, la tutela dell'ambiente e la diciamo è la lotta al cambiamento climatico. L'Unione Europea ha fatto di questo diciamo della tutela al ben ambiente, del cambiamento climatico uno dei grandi obiettivi per il futuro e quindi è l'Unione Europea stessa che ritiene che tutta la comunità dovrebbe sensibilizzare a queste tematiche e quindi gli enti, le associazioni, le istruzioni, le scuole dovrebbero aprire un dibattito attivo su queste tematiche proprio anche per salvare il nostro futuro. E poi appunto la partecipazione democratica, c'è la promozione della cittadinanza attiva, una maggiore conoscenza anche di che cos'è l'Unione Europea e in particolar modo anche di che cosa vuol dire essere cittadini europei e anche appunto una maggiore sensibilizzazione della nostra identità proprio di diciamo di Unione Europea, di persone appunto di cittadini che apparteniamo all'Unione Europea. Ed è proprio in questo contesto, proprio in questo diciamo in questo contesto che è stato pensato diciamo la grande novità dell'accreditamento. Accreditamento è proprio una novità pensata nella nuova programmazione Erasmus 2021-2027. È un diciamo è un mezzo, uno strumento che ha proprio che persegue l'obiettivo di poter creare proprio quello spazio, uno spazio europeo per l'istruzione stabile. Perché? Perché l'accreditamento permetterà all'ente accreditato per sette anni, perché chi ottiene l'accreditamento sarà accreditato dal 2021 al 2027, di poter programmare le proprie attività in modo più stabile, in un periodo, in un lasso di tempo anche molto abbastanza ampio e soprattutto anche il vantaggio di vedere il proprio diciamo di ottenere una corsia preferenziale per ottenere i finanziamenti. Questo perché? Perché fondamentalmente il proprio progetto verrà valutato una sola volta. Ottenuto l'accreditamento, poi l'ente diciamo negli anni successivi richiederà una richiesta di finanziamento per le mobilità e poi ovviamente l'ente è un'opportunità perché diciamo si potrà potrà interagire con frequenza con partner esteri e quindi diventare un ente più innovativo, più interattivo e soprattutto potrà avere anche sviluppare la capacità di organizzare delle mobilità di alta qualità e poi da ultimo, cioè da ultimo diciamo inoltre è importante anche la ricaduta, considerare la ricaduta che può avere questa diciamo questa possibilità sulle competenze dello staff perché lo staff potrà migliorare le competenze adeguandole anche a quello che viene richiesto dalla società e da ultimo sicuramente l'importantissima possibilità data di scendere adulti con minore opportunità di poter partire in mobilità e quindi di poter sviluppare le proprie competenze chiave. L'ente e l'organizzazione che decide di candidarsi deve avere anche ben chiaro, ben chiara qual è l'impostazione di un progetto. Un progetto è scendito da fasi, da quattro fasi fondamentali che sono importanti e soprattutto devono essere ben pianificate e ben capite perché ogni fase permetterà la possibilità, vi darà la possibilità se ben programmata di realizzare i vostri obiettivi, di conseguire risultati e soprattutto di creare anche un buon progetto che potrà anche avere degli ottimi risultati e quindi diventare anche una buona pratica. Quindi la prima fase ecco qual è innanzitutto la pianificazione, quando si pianifica il progetto è importante capire, chiedersi quali sono i bisogni dell'ente, dello staff, dei discenti e quindi sulla base di questo capire quali sono i bisogni e anche magari i propri punti deboli perché da lì si costruiranno gli obiettivi e i risultati che si vogliono raggiungere. E poi è importante creare un buon team di lavoro, avere una buona, un buon team di lavoro e anche sviluppare un buon piano di lavoro per capire ecco come portare avanti e come sviluppare, cioè per capire ecco come pianificare più che altro le attività. Una buona preparazione porterà ovviamente anche una buona implementazione delle attività. E poi da ultimo importantissima la fase di follow up e quindi capire e valutare qual è stato l'impatto della dell'attività che è stata svolta, quindi che cosa ha portato questa diciamo questa attività al partecipante, all'ente, quali sono state proprio appunto i risultati, questo è importante e poi ovviamente anche è importantissima la condivisione dei risultati. Andiamo ecco alle informazioni un po' più tecniche per candidarsi per l'accreditamento. La scadenza è il 19 ottobre 2021 alle ore 12. Ogni ente potrà presentare una candidatura per un settore diverso, però ovviamente deve essere un settore di propria competenza. È importante ribadire che l'ente deve presentare una candidatura per ogni settore e ovviamente il settore deve essere di propria competenza. Per quanto riguarda poi il modo in cui può candidarsi l'ente, l'ente appunto può decidere di candidarsi o come singolo ente oppure come coordinatore di consorzio. A tal proposito è interessante appunto soffermarsi sulla peculiarità del consorzio, perché il consorzio è sicuramente una diciamo un'opportunità. Un'opportunità perché? Perché già appunto come già vi avevo anticipato permette sicuramente, favorisce la partecipazione al programma di più enti in qualità proprio di membri di consorzio. E poi anche un momento interessante di condivisione, perché l'ente coordinatore di consorzio coinvolgerà ovviamente più membri di consorzio e quindi sa che saranno organizzazioni o enti attive nello stesso settore dell'ente coordinatore di consorzio. Quindi se l'ente si occupa e è attivo nel campo dell'istruzione degli adulti ovviamente anche i membri coordinatore di consorzio saranno attivi nello stesso campo e quindi è un modo di lavorare insieme anche interessante perché permette anche di sviluppare insieme il diciamo il progetto. E poi importante diciamo da ultimo perché permette anche di superare quelle difficoltà che si potrebbero avere quando ecco ci si candida come diciamo come ente singolo. Un discorso a parte è come erita il problema delle diciamo delle organizzazioni di supporto. Quando parliamo di organizzazioni di supporto intendiamo più che altro quegli enti e quelle organizzazioni che si occupano ecco di europrogettazione e che magari ecco molti di voi pensano o già hanno contattato per ricevere un ausilio o una consulenza per scrivere la candidatura. Ora è importante capire qual è il ruolo di queste organizzazioni di supporto perché quando si parla di ausilio e consulenza può anche andare bene però ci sono delle attività che non possono assolutamente essere delegate a questi enti ovvero a terzi e sono soprattutto la gestione del progetto, la gestione del progetto, la stesura della candidatura del piano Erasmus, i contatti con l'agenzia, le decisioni che incidono sul contenuto, la qualità e i risultati delle attività svolte. Quindi è importante capire il ruolo di queste organizzazioni e soprattutto avere ben a mente che non possono essere delegate con le attività qui elencate. Inoltre occorre proprio evidenziare che la commissione europea ha inserito diciamo formalmente questi enti all'interno della candidatura nel senso che prevede proprio un accordo formale dove il candidato debba chiarire qual è il coinvolgimento di questi enti terzi nella stesura della candidatura ed eventualmente nella gestione del progetto. Infine occorre ricordare praticamente che il rappresentante legale rimane sempre il responsabile dei risultati e delle attività del progetto e che quindi il rappresentante legale andrà a firmare una dichiarazione chiamata appunto la dichiarazione d'onore dove dovrà garantire che il piano Erasmus è stato appunto scritto e anche la candidatura è stata scritta dal candidato e quindi non da enti terzi, quindi ne avrà appunto una responsabilità. Quindi concludo prendendo in considerazione appunto gli enti che possono candidarsi, cioè chi effettivamente può candidarsi per richiedere l'accreditamento nel settore dell'educazione degli adulti. Innanzitutto sono le organizzazioni che erogano educazione degli adulti formale, informale e non formale. Non possono candidarsi le organizzazioni attive nel campo dell'istruzione e formazione professionale nel settore degli adulti, in quanto per queste organizzazioni l'Agenzia Nazionale di Riferimento è INAP e non è l'Agenzia Erasmus. E poi le autorità appunto pubbliche, locali e regionali, gli organismi di coordinamento e altre organizzazioni attive nel settore legalmente appunto riconosciute. Io ho concluso, passo la parola alla collega Marilena Spezzano che continuerà appunto a darvi delle interessanti informazioni sull'accreditamento. Grazie. Sì, eccomi, buonasera, ben ritrovati. Mi presento, sono Marilena Spezzano. Andiamo a vedere, come diceva Elisabetta, quelli che sono le altre peculiarità insomma per quanto riguarda l'accreditamento. Chiedo alla regia per cortesia se mi puoi dare conferma per le slide. Bene. Allora, proseguiamo un po' questo percorso per l'accreditamento. Allora, andiamo a vedere un po' nello specifico quali sono i requisiti per accreditarsi. Sicuramente i requisiti per accreditarsi si raccolgono nella capacità operativa professionale. Che cosa significa? Significa che l'ente e l'organizzazione che presenta domanda di accreditamento è bene che abbia almeno due anni di esperienza nel settore appunto dell'educazione degli adulti. In particolare ovviamente per i consorsi e soprattutto per i coordinatori di consorzio è importante proprio la capacità diciamo di poter coordinare e gestire quelle che sono le attività condivise attraverso appunto la creazione di questo consorzio ed esposte sicuramente nel piano Erasmus. Un'altra delle peculiarità dei requisiti per accreditarsi anche se poi verrà diciamo analizzato in seconda battuta è la capacità finanziaria. Ci riserviamo ovviamente per inciso lo dico di puntualizzare che l'agenzia nazionale comunque effetto anche un'operazione di controllo appunto e monitoraggio. Il controllo può essere per esempio un controllo formale per quanto riguarda magari documenti, visite, monitoraggio o comunque vedere quali sono i progressi appunto fatti all'interno dell'accreditamento. Andiamo a vedere nello specifico la durata. Si parla di accreditamento quindi si parla di un programma che va appunto dal 2021 al 2027 quindi ha una durata di sette anni. Tuttavia per il piano Erasmus proprio per diciamo avere una pianificazione un po' più concreta diciamo realistica avrà il piano Erasmus avrà una durata diciamo un po' minore rispetto al programma che va da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni. In questo arco di tempo comunque deve essere il piano Erasmus è importante perché deve essere aggiornato almeno una volta. Andiamo a vedere quello che è il modulo di candidatura. Allora il modulo di candidatura verrà compilato seguendo praticamente un percorso. Questo percorso fondamentalmente vi porterà diciamo a disegnare quelli che siete ovvero a dare delle informazioni per quanto riguarda il background quindi chi siete perché vi state candidando soprattutto. Il cuore ovviamente di tutto quanto dell'accreditamento della vostra domanda sarà l'Erasmus Plan e nell'Erasmus Plan dovrete indicare in maniera appunto abbastanza concreta quelli che sono gli obiettivi cioè perché ti stai candidando e che cosa vuoi raggiungere quelle che sono le attività ovvero in che modo riuscirai a raggiungere questi obiettivi e poi anche si andrà a diciamo ad esporre quelle che sono le strategie per la gestione. Gestione che dovrà comunque sicuramente rispettare quelli che sono gli standard di qualità che andremo a vedere un pochino più nello specifico ma che sostanzialmente ci faranno capire in che modo voi avete intenzione comunque di diciamo mandare avanti il lavoro raggiungere gli obiettivi quali attività appunto sono scelte perché e quali sono magari anche diciamo le risorse che verranno coinvolte. Una cosa molto importante che sicuramente merita attenzione è quella dei documenti strategici perché ora abbiamo appunto la possibilità di poter inserire anche dei documenti strategici proprio all'interno del piano Erasmus cioè quando si fa domanda quando ci si candida. Questi documenti strategici sono facoltativi ma sono altrettanto importanti se abbiamo intenzione di diciamo sviluppare un progetto che richieda comunque anche la presenza di questi documenti strategici perché magari giustificano obiettivi o attività. Allora prima parlavamo appunto quando si parlava di gestione si parlava anche di rispetto di standard di qualità e di fatto adesso andiamo a vedere proprio quali sono questi standard di qualità che devono essere assolutamente garantiti. Allora ci sono dei principi base che come ne ha già parlato appunto la dottoressa Venturi e anche la dottoressa Cutrale sono quelli diciamo che sono abbracciati dal programma che comunque si devono intrecciare con i vostri di progetti quindi bisogna porre particolare attenzione all'inclusione, al green, a quelli che sono appunto gli strumenti digitali ok e creare anche uno spazio di identificazione europea che è molto molto importante. Ovviamente insieme a questi principi base troviamo sicuramente una buona gestione, una buona gestione che può essere mantenere la titolarità, volutamente l'ho messa all'inizio proprio perché vogliamo insomma dare particolare importanza al fatto che l'applicante, il coordinatore di consorzio o comunque chi vorrà effettivamente proporre una candidatura e quindi redigere un progetto perché ha delle finalità da raggiungere ovviamente, deve mantenere questa idea come tale, deve gestirla anche perché si può avvalere dell'aiuto di organizzazioni di supporto a patto che siano appunto un valore aggiunto, un ausilio o comunque una consulenza. Tutto deve essere effettivamente svolto poi in maniera molto attra trasparente integrando ovviamente i risultati e una buona gestione parte anche dal fatto che si debbano rispettare quelli che sono gli adempimenti formali. Ovviamente la buona gestione del consorzio si esplica soprattutto anche nell'assegnazione di quelli che sono i fondi, i compiti o comunque il coinvolgimento di tutto del coordinatore di consorzio e i membri consorziati che come sappiamo comunque hanno un obiettivo in comune e in condivisione, quindi attività, la sinergia diciamo tra questi protagonisti del consorzio che sia il coordinatore che gli anticonsorziati che dovranno condividere. Poi abbiamo appunto l'organizzazione di qualità e sostegno ai partecipanti, cioè ci devono essere comunque delle selezioni trasparenti, un coinvolgimento abbastanza attivo, eco sicuramente, nonché anche un sostegno ai partecipanti. Non meno importante anche se per ultimo è la condivisione dei risultati, cioè la fase di dissimilazione è veramente importante perché poi gli standard di qualità, comunque la gestione di un progetto deve avere un diciamo un rimbalzo come lo chiamo io all'interno dell'organizzazione o del consorzio ma anche all'esterno. Andando avanti allora i vostri progetti, le vostre candidature diciamo sono soggette ovviamente ad una valutazione, una valutazione fatta appunto da valutatori esterni dove vi si assegnerà un punteggio che va da un minimo di 70 a un massimo di 100. Sono quattro i campi più importanti che sono dati appunto dalla rilevanza, dagli obiettivi, dalla gestione e dalle attività. Allora importante dire che per quanto riguarda il punteggio in almeno la metà del punteggio massimo, cioè bisogna avere almeno la metà del punteggio massimo in ciascuna delle quattro categorie dei criteri di aggiudicazione che so che può sembrare uno scioglilingua ma in realtà è semplice. Allora andiamo a vedere quindi quella che è la rilevanza. La rilevanza si riflette soprattutto nel profilo, nell'esperienza appunto di chi va diciamo a compilare la domanda, di chi si candida e per i coordinatori di consorzio ovviamente è altrettanto importante la pertinenza che c'è tra tutti i membri del consorzio e poi gli obiettivi che sono da raggiungere e la pertinenza si vede anche nelle attività che ovviamente i membri del consorzio poi svolgono, cioè deve essere tutto effettivamente correlato. Gli obiettivi, gli obiettivi hanno un massimo di 40 punti quindi è una parte abbastanza sostanziosa, abbastanza importante che merita particolare attenzione. Ovviamente gli obiettivi come abbiamo già detto prima devono essere assolutamente in linea con quelli della call, quindi inclusività green, la transizione digitale e la creazione di uno spazio europeo. Ovviamente questi obiettivi però devono essere anche abbastanza diciamo concreti, cioè devono riflettere un pochino quella che è l'organizzazione dell'applicant, quindi dell'organizzazione o dell'ent del consorzio. Devono essere realizzabili ma anche un po' ambiziosi al fine proprio di apportare diciamo quel valore aggiunto che poi è anche l'obiettivo di partecipare diciamo all'accreditamento. Quindi riprendendo questo diciamo che gli obiettivi devono essere diciamo chiari, esposti in maniera chiara, devono essere concreti, devono essere realizzabili soprattutto e molto importante sicuramente affinché riescano diciamo bene nella gestione e il raggiungimento degli obiettivi e anche diciamo l'attività di monitoraggio di questi ultimi. Prima parlavo di documenti strategici che erano legati appunto a questa nuova forma di poter per poter accedere appunto all'accreditamento. Allora se ci sarà diciamo se degli obiettivi richiedono appunto questo tipo di documentazione è bene che ci sia un legame tra quello che è il documento strategico e ovviamente il piano Erasmus e anche nell'aspetto proprio sotto l'aspetto dell'obiettivo. Gli altri criteri di renotazione come vi avevo anticipato prima sono le attività e la gestione. Allora le attività, le attività ovviamente ci deve essere tutta una razio, ok? Cioè devono essere anzitutto proporzionali tra il numero di partecipanti, gli obiettivi che ci siamo posti, la grandezza dell'ente anche o del consorzio, ok? Ovviamente il numero di partecipanti deve essere anche correlato a quelli che sono gli obiettivi. Cioè ovviamente tutti questi aspetti sono correlati proprio tra di loro e hanno un effetto mi verrebbe da dire a cascata quasi. È molto importante scegliere poi dei profili appunto adeguati dei partecipanti. Molta importanza per esempio il programma dà ai discenti con minori di opportunità anche per una questione appunto di lo skilled, per una questione anche di inclusione, ok? A livello sociale. In ultimis appunto abbiamo la gestione dove c'è un massimo di 30 punti. La gestione, la gestione è molto importante perché fondamentalmente è alla base diciamo dell'implementazione del progetto. Quindi migliore la gestione, migliore sarà ovviamente anche il raggiungimento degli obiettivi, anche l'organizzazione delle attività se vogliamo. La gestione si riflette soprattutto nella divisione dei compiti che comunque devono sempre avere ben presente quelli che sono gli standard di qualità. Avere un diciamo un gruppo di persone, di risorse che si dedicano alla gestione delle attività come la programmazione, come verranno programmate le attività e quant'altro, è sicuramente un buon punto di partenza. Come un buon punto di partenza è sicuramente il coinvolgimento dei partecipanti all'interno di tutta l'organizzazione dell'implementazione delle attività che si ha intenzione di fare. Ovviamente capita molto spesso che nel corso del tempo, anche perché quando si parla di accreditamento appunto si parla di sette anni di programma e un massimo di cinque appunto di attività, quindi un periodo abbastanza lungo in cui le organizzazioni si trovano anche a dover affrontare diciamo dei cambi dirigenziali, dei cambi di persone di contatto, quant'altro. Ecco perché è abbastanza importante avere magari delle risorse dedicate perché in tal caso per esempio se ci dovesse essere un cambio di personale o si dovessero appunto integrare dei risultati appunto alle mobilità, c'è comunque la gestione un po' più fluida in questo senso ecco. Io ho finito la mia presentazione, intanto vi lascio la pagina dove trovate tutti i nostri contatti, allora l'agenzia nazionale appunto Erasmus Indire si trova a Firenze, in via Lombroso, accreditamento è da chiocciolendire.it, è la nostra email e io vi lascio anche il contatto telefonico anche se purtroppo a volte abbiamo avuto dei problemi proprio tecnici però il martedì, il venerdì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14 alle 16 in genere ci siamo e rispondiamo allo 055 2380 328 e sotto vedrete tutti i nostri insomma social. Va bene? Grazie, buonasera. Grazie Marilena, ecco riprendo un attimo la parola, grazie anche Elisabetta, insomma vi hanno spiegato nel dettaglio i tecnicismi dell'accreditamento, vi ricordo appunto che se avete delle domande le potete proporre fra poco nella sessione apposita. Solo un piccolo commento per quanto riguarda il discorso della reciprocità, diciamo che appunto la domanda che voi farete è rivolta all'Agenzia Nazionale e prevede, può prevedere appunto una serie di, poi il piano prevederà una serie di mobilità verso possibili destinazioni, non è quindi previsto insomma proprio già nella domanda, tanto poi le destinazioni potrete selezionare anche più avanti, una reciprocità, però diciamo come può essere una buona idea cercare poi al momento in cui si realizzano delle mobilità che si tratti di job shadowing, che si tratti di mobilità dei discenti, trovare insomma appunto un accordo con degli istituti partner, tanto appunto se anche loro hanno l'accreditamento poi potranno anche successivamente, hanno comunque la garanzia di partecipare al programma per una serie di anni, quindi può essere un consiglio che vediamo di lavorare anche in un'ottica di questo tipo perché garantirà ovviamente una migliore accoglienza nei due sensi, ci sarà più interesse a sostenere la partecipazione e l'integrazione delle persone che saranno in mobilità. Ecco appunto dove andare, come cercare, come cercare partner, come cercare destinazioni, su questo vi può essere d'aiuto anche la piattaforma Epale e per questo passo adesso la parola alla collega Martina Blasi dell'Unità Nazionale Epale Italia che è sempre collocata presto in dire che vi farà un po' una piccola visita guidata alla piattaforma e appunto all'interazione con Erasmus. Bene, grazie Lorenza, buongiorno a tutti, sono appunto Martina Blasi e lavoro all'Agenzia Erasmus, nello specifico nell'Unità Epale Italia. Vado a presentarvi brevemente quelle sono appunto le opportunità offerte da questa piattaforma Epale che sicuramente sono opportunità e potenzialità importanti per chi lavora come voi nel settore dell'educazione degli adulti e soprattutto anche nella progettazione europea. Ecco qua, qua andiamo alla prima slide, ok, ecco, esatto. Innanzitutto che cos'è Epale? Epale è una piattaforma europea per l'educazione degli adulti appunto, è una community, è una community che si rivolge a chi lavora nel settore dell'educazione degli adulti, quindi docenti, formatori, educatori, operatori del terzo settore, responsabili delle politiche. Ricordiamo sempre che quando si parla di apprendimento degli adulti stiamo parlando appunto dell'educazione non solo formale ma come sempre anche non formale e informale. Epale nasce nel 2015, è finanziata dal programma Erasmus ed è a sostegno proprio dell'educazione degli adulti e della progettazione anche e specificamente per le azioni chiave 1 e per le azioni chiave 2. La nostra unità, come ha già detto Lorenza, opera all'interno di Indire e però così come in Italia noi operiamo per l'implementazione della parte italiana della piattaforma, della community, così ci sono altre 37 unità nazionali divise nei diversi paesi che partecipano al programma ed ogni unità nazionale implementa l'interfaccia della piattaforma che riguarda il suo paese. Inoltre tutte queste unità nazionali sono coordinate da un servizio di supporto centrale che serve proprio per coordinare le diverse unità nazionali ma anche per promuovere dei contenuti che sono più diciamo di interesse non solo nazionale ma anche europeo o quindi politiche europee, studi comparativi riguardanti diversi settori o priorità tematiche dell'educazione degli adulti nei diversi paesi. Infatti questa community è multilingue ed è disponibile nelle 32 lingue ufficiali. È molto importante, veramente vi invito, vi invitiamo ad iscrivervi. La community adesso già ha oltre 99.000 utenti quindi una community molto vasta ma è molto importante per voi iscrivervi e partecipare perché davvero Epale è adesso un po' quello strumento, quella risorsa che speravamo che diventasse quando è nata ecco perché è estremamente utile ed è anche estremamente intuitiva, il sito è estremamente intuitivo, è stato recentemente è stato riprogrammato quindi ha una nuova versione grafica che rende sempre più facile la navigazione. Comunque è importante questa piattaforma per informarsi su cosa accade nel settore dell'educazione degli adulti in Italia e naturalmente in Europa quindi informarsi, contribuire, contribuire perché iscrivendovi voi stessi potete pubblicare notizie, blog, eventi, risorse e quant'altro quindi ogni tipologia di contenuto che si trova all'interno della piattaforma può essere, voi la potete implementare iscrivendovi e su questo voglio dire che ogni cosa che viene pubblicata online che appare in Epale prima di apparire appunto online viene sottoposta ad un controllo da parte delle singole agenti e unità nazionali un controllo naturalmente di pertinenza, di qualità e quindi questo vi garantisce l'accesso a dei contenuti di qualità. È importante quindi anche per collaborare e fare rete perché oltre agli spazi di informazione come sono appunto i news, le blog, le risorse ci sono scambi interattivi cioè scambi in cui, scambi scusate, sezioni in cui è possibile entrare in delle community di pratica in dei gruppi di lavoro che servono proprio per discutere su determinate tematiche oppure per scambiarsi delle buone pratiche oppure anche per portare avanti un progetto oppure per trovare partner di progetto, per questo è molto importante per la progettazione di Erasmus quindi è possibile fare rete. Adesso purtroppo è da tanto che ci dobbiamo vedere tramite eventi, incontri online ma non è solo una community virtuale questa ma è anche una community fatta di persone reali che spesso abbiamo, insomma che spesso durante i nostri seminari, durante gli incontri di Erasmus spesso ci sono state occasioni di incontro e di lavoro anche in presenza inoltre è possibile formarsi perché esiste una sezione apposita nella quale potete trovare risorse, casi studio o IAR e MOOC quindi è possibile anche avere una formazione e naturalmente promuovere i propri progetti vedete nella slide successiva questa è l'home page questa è l'home page della piattaforma che come dicevo precedentemente per chi forse l'aveva vista qualche anno fa aveva un'altra versione grafica quindi questo anche Epale per il 2021 come è stato detto per quanto riguarda il programma Erasmus e per quanto riguarda la progettazione anche Epale per il 2021 promuove tre tematiche principali che sono le stesse appunto ovvero le competenze per la vita, il lavoro e il benessere personale questo è uno dei tre focus del 2021 quindi diciamo che in questo anno i contenuti sono soprattutto su questi tre focus il lavoro e il benessere personale quindi il focus sulle competenze per la vita che incoraggia gli adulti a partecipare in maniera attiva nella società questo focus affronta anche tutta quella che è l'importanza del miglioramento delle competenze per gli adulti e anche tutto ciò che riguarda l'alfabetizzazione sanitaria e l'alfabetizzazione digitale soprattutto alla luce di quanto è successo con la pandemia altro focus è quello delle transizioni digitale la transizione digitale che sappiamo deve essere una transizione digitale inclusiva e da questo punto di vista anche noi stiamo attualmente lavorando come unità Epale per un seminario che promuove proprio l'educazione digitale e la transizione digitale all'interno dei CPA e deve essere una transizione digitale al servizio dell'inclusività quindi soprattutto pensata anche per raggiungere coloro che hanno più difficoltà ad essere inseriti nei percorsi di istruzione e infine come appunto per il programma Erasmus il cambiamento sociale inclusivo quindi equità sociale, sostenibilità e diritto all'istruzione, alla formazione, all'apprendimento permanente di qualità e questi sono i tre temi del 2021 vediamo adesso quelle che sono le sezioni della piattaforma allora vedete in alto le sezioni sono contribuisci, collabora, apprendi, la politica dell'Unione Europea nell'ambito dell'educazione degli adulti e poi a proposito di infine il mio Epale questa che vedete qua è quella che è la prima sezione cioè quella del contribuisci vedete temi, qua potete fare una ricerca su tematiche per scoprire che cosa su quel determinato tema è stato pubblicato nelle diverse tipologie di contenuti quali sono i temi di Epale? Ve li dico molto velocemente sono gli ambienti di apprendimento all'interno degli ambienti di apprendimento poi ci sono altri sottotemi tipo l'educazione in carcere poi c'è il sostegno ai discenti, migranti, disabili, le politiche, la qualità dell'apprendimento le abilità, l'educazione finanziaria, le competenze di base, l'educazione sanitaria sono tanti tanti temi che però adesso non ve li sto a elencare tutti perché ciò che dovete fare naturalmente è conoscerla e visitarla voi stessi qua è possibile fare una ricerca e poi vedete invece in queste altre in queste altre tipologie di contenuto che tutte sono cose che potete sia consultare per vedere cosa è stato pubblicato da noi, cosa è stato pubblicato dal supporto centrale cosa è stato pubblicato dagli altri utenti che oppure scrivendo si ripeto voi stessi pubblicare blog, quindi approfondimenti, news che sono appunto notizie, notizie sempre attuali su ciò che accade nell'educazione degli adulti, nel paese appunto di appartenenza o nei diversi paesi visitando le altre interfacce eventi, questo penso che sia molto interessante anche per voi questa sezione perché qui potete trovare e fare una ricerca per paese, lingua, tematica, target, tipo di evento e andare a cercare proprio l'evento che cercate che magari appunto vi serve da inserire per un vostro progetto community stories sono storie invece di ispirazione, cosa vuol dire? sono racconti di esperienze che possono ispirare gli altri per come si è affrontata una sfida educativa è stato pubblicato recentemente il community story 2020 è in corso di lavorazione quello sul 2021 sappiamo che la pandemia ha smosso molto questo tipo di condivisione, la condivisione delle storie perché ce n'è bisogno, perché ci siamo tutti trovati in difficoltà e spesso appunto la soluzione trovata da un'altra persona, da un altro ente, da un altro gruppo può essere d'aiuto per risolvere il nostro problema o può essere di ispirazione noi lavoriamo molto su questo, lavoriamo molto sulla condivisione delle storie e molto anche sulle metodologie autobiografiche quindi proprio come approccio educativo, non so se ora non ho tempo ma per esempio anche tutta quella che è la rete dei role model Erasmus e Depale proprio di questo si tratta, di una metodologia autobiografica di una narrazione di sì per aiutare gli altri bene, andiamo avanti, se no faccio sto troppo collabora, ecco qua invece sono per quanto vi dicevo prima ecco qua sono tutte sezioni in cui è più possibile interagire interagire, cosa vuol dire? la comunità di pratica per esempio sono dei gruppi di lavoro online per persone che condividono un interesse comune su un determinato argomento è possibile iscriversi, è molto semplice, basta cliccare sul link per l'iscrizione e iscrivendosi all'interno si entra in una community di persone che lavorano nell'educazione degli adulti e sono tutte interessate su quel tema a parlare di quel tema, io non so per esempio la disabilità a parlare dell'inclusione delle persone disabili a parlare di quel tema e con diversi tipi di tipologie di contenuti e ci sono i documenti ma si può fare alcuna discussione ci sono le buone pratiche, insomma si entra in un gruppo di lavoro molto libero, molto aperto le discussioni, anche questa è una cosa molto simile si tratta però di condividere e scambiare buone pratiche sempre su argomenti specifici entrando in ogni sezione voi trovate la comunità di pratico la discussione che vi interessa e vi potete iscrivere vi potrà sicuramente interessare la sezione partenariati perché all'interno di questa vi è il cerca partner il cerca partner Erasmus quindi potete trovare organizzazioni o privati che sono interessati a collaborare per sviluppare un progetto europeo e potete anche altrimenti pubblicare voi stessi la vostra domanda, la vostra ricerca di partner è possibile anche qui fare una ricerca fare un filtro per trovare esattamente il partner il partner che ci interessa quindi per esempio è possibile fare una ricerca per paese per tipo di attività potete scegliere che siete alla ricerca di un job shadowing o di un finanziamento europeo o di un progetto virtuale oppure per tipo di organizzazione siete alla ricerca di un ente pubblico, privato o operatori del terzo settore quindi potete affinare la vostra ricerca organizzazioni, qua invece è una lista delle organizzazioni che si trovano, che in tutta Europa anche qui potete, quindi non ricerca partner specifico su una tematica ma proprio una lista di organizzazioni che hanno deciso di iscriversi e di promuoversi anche qua come al solito ogni filtro per una ricerca più perfetta la directory dell'utente qui potete vedere tutte le persone che sono iscritte e cercare le persone che sono iscritte nella community e anche entrare in contatto con loro gli spazi collaborativi questi sono spazi privati di lavoro mentre le community di pratica e le discussioni sono spazi aperti questi sono spazi più privati persone che già iniziano a lavorare non solo a discutere a scambiare idee ma già ci avviciniamo sono degli spazi di lavoro più specifici e per iscriversi ad uno spazio collaborativo ad un gruppo di lavoro che ci interessa è necessario richiedere discrizione all'organizzazione, alla persona quello che è che ha aperto quello spazio collaborativo per aprirlo uno voi dovete fare richiesta è tutto molto semplice ci sono poi questo NS Group questo NO l'ultima cosa che vi interessa molto però è l'Erasmus Space che è quello che è stato creato recentemente così che PALI diventasse sempre di più sempre di più vicina alla progettazione Erasmus questo spazio è dedicato proprio ai progetti K1 e K2 quindi siamo mentre anche lo spazio collaborativo è uno spazio di lavoro ma può essere sulla progettazione più ampia qua si parla di progettazione Erasmus anche qui ci sono diverse sezioni per chi entra a far parte di questo spazio di uno di questi spazi o ne promuove uno e quindi ci sarà laddove si può discutere con tutti quelli che sono nel gruppo di lavoro laddove si può condividere i documenti laddove si può scambiare un'opinione cioè entrate proprio in uno spazio di lavoro virtuale ma è specificamente rivolto alla progettazione Erasmus e non solo durante ma anche dopo perché c'è tutta la possibilità tramite l'Erasmus Space di aiutarvi nella disseminazione del progetto a breve ma ancora non è presente sarà in questo spazio collabora presente anche la sezione del catalogo dei corsi quello che era il precedentemente per chi lo conosce il catalogo Grundwig dei corsi e quindi proprio per l'azione chiave 1 invece questa è la sezione apprendi abbiamo detto che ci sono questa è una nuova sezione prima c'erano già il centro delle risorse ma non c'erano i MOOC e gli OIAR qua quindi è possibile trovare dei materiali didattici pronti per essere utilizzati in un contesto educativo e sono molto interessanti sono liberi e permettono una conoscenza complessa su degli specifici argomenti infine c'è il spazio del mio epale che racchiude diciamo è lo spazio personale il vostro spazio personale in cui potete ritrovare ciò che per esempio gli articoli nei quali voi avete messo like quindi che avete che vi sono piaciuti tutti i gruppi a cui fate parte le discussioni nelle quali siete ecco tutto quello le community di pratica alle quali vi siete iscritte invece di siete iscritti o iscritte ecco senza aver bisogno di andare a ricercare nell'interno dei neandri di questa grande community quindi nel mio epale quello appunto iscrivendovi è il vostro spazio in cui ritrovate tutte le vostre informazioni ok eccolo nel mio pale infine vi voglio velocemente ricordare per chi fosse interessato gli ultimi eventi di questo autunno 2021 sui quali stiamo lavorando come unità epale d'Italia il primo è Restart che si tratta di un ciclo di incontri con gli autori dei dimenticati libro dimenticati dalla pandemia libro di infinite edizioni e un corso di educazione alla cittadinanza attiva quindi è un ciclo di incontri che però a cui è affiancato anche un corso proprio di educazione alla cittadinanza attiva e questi incontri sono su le tematiche che sono state trattate all'interno del libro e che ritroviamo vedete qua ho messo le date il primo è già stato fatto il 23 settembre Donne il lavoro ci sarà poi il 5 di dicembre un incontro dedicato all'istruzione il 19 novembre i migranti e il 2 dicembre disabilità quindi sono degli incontri ma è anche un corso perché per iscriversi è necessario per partecipare è necessario iscriversi dopo dovrete entrare in una community di pratica e pale dedicata proprio a restart e quindi non è solo la possibilità di ascoltare ciò che i relatori di questo libro su coloro che sono stati esclusi dalla ripartenza insomma dalla ripartenza dalla pandemia ma non solo questo ma avrete la possibilità anche di interagire con dei moderatori che sono stati diciamo che sono tutti all'interno di questo settore che sono esperti ognuno per i diversi temi che vedete e quindi insomma non è solo un seminario ma è un vero e proprio corso di formazione infine questo evento è Epale Eduak progettiamo insieme il Cifia del futuro qua invece come vi dicevo precedentemente questo è un seminario per per introdurre e promuovere le competenze digitali degli adulti all'interno di Cifia è un seminario in collaborazione con DJI con Egina Coligno e la rete nazionale dell'Aida per le nuove tecnologie ICT e non è in realtà un seminario abbiamo già fatto un evento di lancio di progettazione ma è un evento partecipativo e competitivo perché si tratta di fare una di fare una sfida una sfida però collaborativa cioè in cui tutti si lavora un po' insieme e un po' a squadre per per progettare cosa? per progettare degli ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata all'interno dei CPA ma attenzione voglio sottolineare che quando parliamo di CPA non intendo solo che la partecipazione è aperta ai docenti agli studenti del CPA e delle sedie associate la partecipazione è aperta anche ai docenti che lavorano negli istituti di secondo grado che erogano percorsi di secondo livello per gli adulti quindi a tutto il mondo dell'educazione degli adulti e la partecipazione è aperta anche per coloro che lavorano in carcere sebbene sappiamo che non sia facile ma la partecipazione volendo con tutte le ristrettezze soprattutto per gli alunni che il carcere comporta soprattutto all'interno delle nuove tecnologie però questo progetto è aperto a tutti e i partecipanti avranno riceveranno una formazione che gli permetterà poi dal 9 al 10 novembre di affrontare la sfida ovvero di fare una progettazione di questo ambiente di apprendimento ognuno il suo che poi saranno presentati questi diversi ambienti di apprendimento e ogni squadra sarà supportata aiutata da delle persone dei mentori che sono appunto degli esperti nel digitale nelle nuove tecnologie che supporteranno i partecipanti ecco sono andata spero di non aver sforato questo è quanto vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci grazie grazie mattina quindi ecco queste erano un po' le opportunità della piattaforma ipale davvero anche questi eventi dell'autunno ve li consiglio fortemente anche se restart è già a metà un po' dello svolgimento ma sono ancora rivedibili i primi incontri se vi interessano e l'EDUAC che si inserisce poi fra l'altro nella più ampia fornice del DG EDUAC proprio della Commissione Europea è una forma un po' nuova però di acquisizione delle tecnologie appunto come ha detto Martina c'è proprio un percorso di formazione per i docenti con quattro incontri e per arrivare poi al 9-10 di novembre fare questo grande gioco un po' uno sforzo di creativo di immaginazione va bene ma torniamo adesso al concreto del call per l'accreditamento e sono qua con noi i colleghi Alessandro Casarrubia e Daniele Carboncini sempre dell'unità EDA di Erasmus più in dire che vi guideranno proprio passo passo alla compilazione del form prego Daniele prego Alessandro Daniele provo a avvicinare un pochino al microfono Adesso mi sentite? Eccolo Ok Allora inizio velocemente sono Daniele Carboncini Buonasera a tutti approfitto appunto di queste slide per innanzitutto salutare tutti i colleghi che sono nuovi e poi diciamo dopo aver approfondito gli aspetti più importanti dell'accreditamento quindi i vantaggi le diciamo anche opportunità che gli enti o le organizzazioni accreditate acquisiscono passiamo a vedere nello specifico il modulo di candidatura però prima di iniziare la compilazione diciamo i richiedenti devono disporre di un account o login valido e del codice OED l'account o login vi permette di poter registrare la vostra organizzazione e accedere al modulo di candidatura se ne siete già in possesso appunto di un account e acas non occorre creare un nuovo account o login in quanto le credenziali rimangono ancora valide per tutti gli utenti che non possiedono invece un account o login devono crearlo qui vedete sotto la slide quindi in fondo un link dove potete accedere alla pagina del create account che comunque è molto veloce in quanto richiede pochissimi dati da compilare il codice OED invece il codice è un codice identificativo univoco che appunto deve essere utilizzato per tutte le candidature relative all'azione del programma Erasmus più che il vostro ente presenterà nella call 2021 il codice OED consente all'organizzazione di compilare la candidatura che poi lo vedremo più nello specifico in modo semplice e molto veloce gli enti che hanno già partecipato al programma Erasmus il vecchio programma 2014-2020 già possiedono un codice OED mentre gli altri utenti non lo possiedono comunque dovranno crearlo qui in basso avete il link per andare direttamente nella nella piattaforma per registrare la vostra organizzazione nel nuovo programma la commissione ha creato la nuova piattaforma che è una piattaforma Erasmus plus che vi permette appunto di creare oppure richiedere le sovvenzioni creare l'organizzazione e comunque richiedere l'accreditamento e comunque diciamo controllare il progetto nel tutto l'arco di vita del progetto stesso quindi dalla rendicontazione al monitoraggio e infine anche per disseminare i risultati questa piattaforma è molto intuitiva ovviamente e basterà avete un main menu sulla sinistra della piattaforma e navigando diciamo in questo menu potete accedere alle varie funzionalità in questo diciamo nel in questo momento ci interessa vedere la parte dell'organization dove cliccando sulla sezione organization come vedete si vanno ad aprire due nuove sezioni una del search for an organization e il register my organization qui avete insomma le due possibilità per chi ha già il codice OID potrà ricercarlo diciamo all'interno della search for an organization nel caso vi fossero nel frattempo della creazione del codice ID all'inizio della candidatura ci fossero state dei cambiamenti anagrafici e vi preghiamo appunto di aggiornarli diciamo a questo punto della piattaforma in quanto poi se no andremo in caso di accreditamento dovremo fare insomma degli emendamenti e quindi perderemo del tempo utile nel caso in cui abbiate invece bisogno di ottenere il codice OID dovete registrarvi nella sezione register my organizations scorrendo sempre sul menu a sinistra scendiamo in basso e troviamo le opportunities qui sono appunto le opportunità che il programma Erasmus vi offre quindi cliccando sulla sezione opportunities si aprirà un menu a tendina dove cliccherete sulla voce Erasmus plus e ovviamente sceglierete il settore di appartenenza in questo caso è il settore dell'odevazione degli adulti vi preghiamo di fare attenzione soprattutto a lavorare un progetto ben specifico appartenente al settore al vostro settore quindi non un progetto che poi magari risulti magari professionalizzante e vada a impattare in altri settori come il VET che appunto è gestito dall'Agenzia Nazionale di Miniatra è un progetto di mobilità di ente per le mobilità e non un progetto di partenariato successivamente come vedete cliccando sulla sezione adult education vi si apriranno le call che sono disponibili vi basterà cliccare sul tasto apply per aprire il modulo di candidatura alcuni focus importanti sono questi appunto non è non si può aprire lo stesso web form su più browser o su più finestre perché questo potrebbe portare dei problemi al salvataggio del modulo inoltre il valutatore valutaterà la vostra proposta solo sulla base delle informazioni che avete inserito nell'accreditamento e eventualmente di eventuali documenti strategici allegati quindi è importante fornire diciamo le informazioni rilevanti che siano chiare e complete e che insomma i criteri per le domande siano esaustive con chiari criteri appunto di valutazione inoltre l'accreditamento sarà valido per tutta la durata del programma ma dovrà essere aggiornato almeno una volta nei cinque anni e sarà sottoposto soprattutto poi a monitoraggio e valutazione da parte dell'agenzia nazionale non è possibile invece richiedere più di un accreditamento per ente per singolo settore e quindi ecco fate attenzione a scegliere il settore corretto in base alle proprie caratteristiche non è possibile presentare due ente separate come singolo ente o come coordinatore di console se o nello stesso settore questa è diciamo la web form quindi come vedete la prima pagina iniziale in alto con la freccia vedete ci sono nel cerchietto il punto interrogativo che appunto sono le guidelines che nella compilazione sono mi possono sempre dare una mano durante la compilazione del form le sezioni invece che sono contrassegnate dall'asterisco che sono dentro le lenti sono dei campi obbligatori quindi devono essere sempre obbligatoriamente compilati anche qua abbiamo un content menu quindi un menu principale dove come vedete abbiamo appunto tutte le volte che compiliamo una sezione abbiamo un simbolo che ci indica se la sezione è completa oppure non completa con la X rosso ovviamente non sarà possibile andare avanti mentre con il flag fed è possibile arrivare fino a compilare tutte le sezioni fino ad arrivare alla submission del modulo sempre nella sezione context dovete selezionare l'agenzia di riferimento in questo caso io ho l'agenzia nazionale in dire inoltre il web form non è disponibile in italiano questo non significa che appunto non sia possibile compilare il modulo di candidatura interamente in italiano anzi noi lo consigliamo quindi potete scegliere nel language qui accanto la lingua in italiano sempre nel context troviamo diciamo troviamo la è possibile scegliere se ottenere un accreditamento come singolo ente oppure come un coordinatore di un consorzio il singolo ente diciamo che permetterà di inviare mobilità soltanto allo staff dell'ente mentre il consorzio permetterà a un gruppo di più organizzazioni di beneficiare delle opportunità di mobilità all'interno appunto di un singolo accreditamento ovviamente cliccando diciamo l'accreditamento come singolo ente o come coordinatore di consorzio il modulo cambierà le domande in base appunto a questa scelta nella sezione applicant come vedete abbiamo dobbiamo inserire il codice OED qui da dire soltanto che in questo caso occorre verificare che i dati siano corretti per farlo vi basterà cliccare sul tasto verde con l'occhio che vedete sulla estrema destra dello schermo se appunto come dicevo prima i dati non fossero corretti qui non li potete però variare dovete rientrare nella sezione che abbiamo visto della nuova piattaforma dell'Erasmus e quindi nella sezione della search organization potete cliccare richiamare il vostro codice ID e successivamente modificarlo e inserirlo di nuovo in candidatura continuando nell'applicant organization è obbligatorio inserire il rappresentante legale dell'ente e anche un'altra persona di contatto che possa un po' ricoprire il ruolo dell'Erasmus coordinato questo è un ruolo molto importante nel nuovo programma in quanto l'Erasmus coordinato appunto è una persona che si interfaccia direttamente con l'Agenzia Nazionale per tutte le comunicazioni e le info appunto relativa all'accreditamento sempre nell'applicant vedete aggiungendo appunto sia il rappresentante legale e compilando tutti i dati correttamente dell'Erasmus coordinato vedete il flag diventeranno verdi vi permetteranno quindi di andare quindi alla successiva sezione la successiva appunto sezione è il background nel background dovete specificare le caratteristiche e il contesto in cui opera il vostro ente e quindi dovete compilare anche in questo caso tutti i campi che appunto sono obbligatori in modo anche qua da poter continuare nella sezione e acquisire poi successivamente la spunta verde nel background troviamo delle domande che appunto sono un po' più risultate difficoltose e quindi in questa domanda per esempio dovevi chiedere di indicare appunto da quanti anni l'ente è attivo nel settore per quanto si presenta la candidatura non si intende appunto di indicare l'esperienza della progettazione europea quindi in questo caso dovete indicare quanti anni l'ente è attivo nel proprio settore si ricorda ovviamente che sono necessari almeno due anni di esperienza del settore di riferimento la domanda successiva invece è relativa ai bisogni appunto è molto importante perché appunto riguarda i bisogni e le sfide dell'ente o del consorzio è diciamo un punto fondamentale che poi ritroveremo anche nella parte inferiore del modulo è importante per la valutazione diciamo soprattutto qualitativa perché avendo comunque gli obiettivi che siano concuri appunto con il contesto in cui opera l'ente questo vi permetterà di fare un progetto ben preciso e ben specifico sul vostro ente e quindi avere più punteggio sicuramente nella parte del qualitativa sempre nel background diciamo abbiamo un'altra avete la possibilità di inserire anche legando diciamo cliccando su questa spunta e tutti i progetti che avete fatto magari nel vecchio programma questi progetti diciamo che il modulo li va a riprendere dal vostro codice OED e questo vi permetterà appunto fleggando permetterà all'agenzia di spuntando il consenso di avere e acquisire questi dati che comunque sono molto importanti per l'agenzia nazionale sempre sempre nella sezione background abbiamo anche come vedete nel riquadro gli strategic documents questi sono documenti che diciamo non sono obbligatori ma che potete allegare alla candidatura perché diciamo possono completare o convalidare le informazioni che voi già avete messo nel modulo quindi dovete inserire non documenti generici ma ben specifici che appunto vanno a rinforzare quanto già avete precedentemente redatto nella candidatura possono essere appunto il piano di miglioramento oppure la rendicontazione sociale oppure anche la strategia dell'internazionalizzazione dell'ente che magari anche appunto con questa candidatura può essere appunto l'inizio di un percorso di miglioramento che potrà dare una dimensione più internazionale e europea al vostro entro nel caso in cui ci si candidi come coordinatore di consorzio diciamo oltre al modulo che abbiamo già visto compilato che rimane adesso che rimane invariato si aggiunge questa sezione della mobility consortium sempre nella sezione background e quindi per il consorzio obbligatorio in questo caso spuntare una di queste sezioni che sono qui evidenziate ecco in base all'opzione che sceglierete diciamo che andrete diciamo a caratterizzare a costituire a dire al valutatore come in quale ambito opererà il consorzio e gli enti consorziati ancora appunto nella sezione background poi una volta fleggata questa scelta che abbiamo visto prima risponderete ovviamente ad ogni domanda riguardante la matura il background quindi appunto che devono essere appunto congrui con il contesto in cui opera l'ente e anche gli enti consorziati e non dovete diciamo indicare la denominazione degli enti ma bersi il profilo e come vi dicevo appunto il contesto del coordinatore degli enti consorziati importante appunto che la ricerca di accreditamento come coordinatore di consorzio consente di consentirà di richiedere appunto il budget sia ma è legata al consorzio che ai propri staff e adiscenti una volta ottenuto l'accreditamento come coordinatore al momento della resta di mobilità il coordinatore dovrà obbligatoriamente farlo almeno per un membro di consorzi inoltre i membri possono essere sempre gli stessi oppure lavorare di anno in anno a seconda appunto della richiesta di budget degli obiettivi del consorzio e dai bisogni del singolo ente consorziato ovviamente tutti i membri del consorzio devono essere italiani qui abbiamo appunto dopo questa prima compilazione abbiamo il criterio qualitativo della rilevanza diciamo questi sono una slide dei criteri qualitativi sono molto importanti in quanto sono elementi che sono diciamo alla base del lavoro del valutatore con il quale appunto vi riuscirà a valutare in maniera corretta il vostro progetto quindi se avete ben in mente questi diciamo questi punti potrete fare sicuramente un'ottima compilazione e quindi un'ottima riuscita della candidatura e quindi di forre attenzione al profilo all'esperienza e l'attività di scienzi target dell'ente e il settore e gli obiettivi ovviamente che siano pertinenti per il settore e gli obiettivi della call per i coordinatori di consorzio di forre attenzione al profilo dei membri che sia diciamo pertinente allo scopo e agli obiettivi del consorzio e rilevante per il settore e gli obiettivi della call e questo appunto apporti questa creazione appunto del consorzio come influisca e come apporti un chiaro valore aggiunto ai suoi membri successivamente invece passiamo alla sezione Erasmus Plan che diciamo è la parte più fondamentale diciamo il cuore del modulo di accreditamento diciamo che risponde alla domanda appunto in che modo l'accreditamento e l'accesso diciamo al programma e le relative attività favoriscono l'internazionalizzazione dell'ente e promuovono quindi lo sviluppo e le competenze dei discenti dello staff e diciamo che l'Erasmus Plan si basa appunto su quattro pilastri fondamentali che sono gli obiettivi le attività gli standard di qualità e il management e la gestione insomma e l'Erasmus Plan è modificabile nell'arco dell'operata appunto del programma e quindi anche gli obiettivi possono essere aggiornati ovviamente seguendo le esigenze che durante diciamo il percorso del progetto e quindi del programma si aggiornano quindi i bisogni dell'ente e del consorzio inoltre deve essere originale nel senso di unico quindi deve corrispondere deve essere centrato sulle caratteristiche e i bisogni e gli obiettivi del simbolo ente qui stiamo nella sezione Erasmus Plan degli obiettivi e diciamo che il numero degli obiettivi non è diciamo direttamente proporzionale al successo della proposta quindi non importa inserire magari tanti obiettivi che poi magari si possono anche sovrapporre e quindi non avere diciamo una qualità giusta quindi magari gli consigliamo di scegliere uno o due obiettivi e cercare di lavorare su quelli in modo specifico in modo della qualità e che la di valutazione qualitativa sia il più alto possibile sempre in questa sezione abbiamo l'Erasmus Plan degli obiettivi dovete specificare quali risorse sono coinvolte nella stesura degli obiettivi dell'Erasmus Plan le modalità attraverso le quali avete scelto o determinato gli obiettivi e se vi siete basati su documenti strategici già esistenti oppure se avete condotto ricerche o analisi specifiche per i vostri bisogni e questo diciamo è il criterio di valutazione per l'Erasmus Plan che è diciamo il più corposo perché il raggruppo diciamo vale per 40 punti su 100 quindi è una sezione che dovete compilare molto attentamente e quindi vi consiglio di compilare come obiettivi proposti e rispondere in modo chiaro alle esigenze dello staff e dei biscenti per quanto riguarda i coordinatori del consorzio dovete indicare obiettivi che devono essere coerenti con lo scopo del consorzio gli obiettivi proposti devono essere realisti e che abbiano un impatto positivo sia sul lente oppure sul consorzio nel caso abbiate aggiunto documenti strategici questi devono essere come vi dicevo prima pertinenti e non generali e devono comunque andare a giustificare e a rinforzare quanto già avete scritto in precedenza nel background la sezione successiva è quella delle attività qui dovete inserire una stima del numero di discenti o dello staff da coinvolgere nelle attività finanziate nei fondi Erasmus il minimo sono per due anni fino ad avere un massimo di progettazione per cinque anni per aggiungere diciamo i flussi quindi le annualità dovete inserire cliccare sul tasto add new era sul basso a destra e diciamo che il numero di mobilità è indicativo sia per noi che per voi nel senso che non è vincolante in quanto l'agenzia permette di poter diciamo accantonare i fondi in base alla richiesta che voi ci avete fatto in queste mobilità tutto poi dipenderà ovviamente dalla disponibilità annuale dei fondi che l'agenzia poi si vedrà assegnati però comunque ci permette di avere un'idea di quanto poter riuscire ad accantonare per soddisfare diciamo il vostro diciamo le vostre attività progettuali quali sono le mobilità possibili nel settore degli adulti abbiamo la mobilità dello staff quindi un job shadowing di attività di insegnamento o di formazione corsi strutturati ed eventi di formazione la mobilità dei discenti che appunto sono i discenti leggibili sono discenti adulti o con minori opportunità ma in particolare discenti con poche competenze i discenti partecipanti devono essere iscritti in un programma dedicazione degli adulti ovviamente presso l'organizzazione di invio e le definizioni di discenti diciamo con scarse competenze saranno poi pubblicati dall'agenzia nazionale nella prima scadenza appunto della prima della scadenza di questa call le mobilità dei discenti possono essere di gruppo e quindi da 2 a 30 giorni oppure gli individuali che vanno anche questi da 2 a 30 giorni altre attività supportate sono invitare gli esperti ospitare gli insegnanti e l'educatore informazione e le visite preparatorie sempre nella sezione delle attività diciamo che questa vi si richiede appunto il profilo dei discenti non è che vi richiediamo diciamo le generalità al nome o al cognome ma il profilo dei discenti o dello staff che prenderanno parte alle varie annualità fondamentale anche qui indicare se tra diciamo i partecipanti ci possono essere soggetti con bisogni educativi particolari o provenienti da contesti socio-economici svantaggiati il criterio di valutazione per il piano delle attività vale in questo caso 20 punti quindi anche qua diciamo dovete stare attenti io vi ho riassunto un po' con l'attenzione dovete porre sul numero proposto dei partecipanti all'attività di mobilità sia proporzionale alle dimensioni e all'esperienza dell'ERTE e soprattutto realistico rispetto agli obiettivi indicati ovviamente i consorzi saranno prese in considerazione le dimensioni del consorzio previsto come poi avete anche già compilato nel background i profili dei partecipanti ovviamente devono essere pertinenti al settore agli obiettivi che volete poi raggiungere sia prevista l'attività per mobilità per i discenti se e come coinvolti partecipanti con minore opportunità dovete quindi focalizzarvi anche su questo perché è importante anche per l'assegnazione poi dei fondi scendendo ancora troviamo l'Erasmus Quality Standard che sono appunto gli standard di qualità in cui il candidato deve appunto poter proseguire appunto nella compilazione del modulo nel caso ci si candidi come consorzio è il coordinatore del consorzio a garantire per tutti i membri gli standard di qualità diciamo è importante leggere questo punto perché spuntando queste tre flag che vedete nel centro nel riquadro rosso il coordinatore oppure l'ente si prende la responsabilità appunto per tutta la data del programma di garantire questi standard ovviamente se fate domanda come coordinatore cambiano anche gli standard perché sono adattati diciamo su tutto il consorzio e quindi anche sui membri quindi se invece fate una candidatura individuale avrete soltanto la qualità per quanto riguarda i partecipanti del proprio o del vostro ente gli standard di qualità diciamo si basano su questi principi principi base la gestione delle mobilità la qualità del supporto la condivisione dei risultati vediamo brevemente i principi base sono l'inclusione gli strumenti digitali la buona gestione mantenere appunto la titolarità la responsabilità e la trasparenza per i consorsi l'assegnazione dei compiti e fondi condividere competenze e risorse per quanto riguarda i servizi di qualità a sostegno dei partecipanti abbiamo la preparazione il monitoraggio la selezione sia trasparente la valutazione e il riconoscimento dei risultati appunto degli apprendimenti ed infine la condivisione dei risultati è molto importante perché ci permette appunto di segnare sia all'interno e far crescere così ovviamente o in un consorzio tutti i partecipanti sia all'esterno perché potrà così coinvolgere anche chi il progetto comunque ha intenzione di presentare sia un progetto o un accreditamento e in più dare visibilità ovviamente ai fondi utilizzati dell'Unione Europea nella sezione Erasmus Plan Management diciamo l'ultima sezione diciamo che anche questa è collegata strettamente agli standard di qualità e quindi in base alle vostre risposte il valutatore sarà in grado di capire come voi insomma seguirete oppure riuscirete a mantenere come ente o come coordinatore di standard Erasmus di qualità il criterio di valutazione per quanto riguarda la gestione dell'Erasmus Plan vale 30 punti quindi un criterio molto importante dovete indicare con attenzione sia le misure concrete per garantire il rispetto dei principi di base degli standard di qualità una divisione chiara e completa dei compiti in linea con gli standard di qualità Erasmus risorse adeguate ovviamente per gestire tutti gli standard di qualità e coinvolgendo tutti i livelli dell'ente garantire misure appropriate in caso appunto di e dare in caso di cambiamento nel personale o di struttura nell'ente inoltre appunto garantire misure concrete ed efficaci per integrare i risultati delle attività di pubblica nelle attività che poi l'ente svolge regolarmente infine siamo diciamo nella parte finale del modulo di candidatura siamo nella sezione degli annex qui sarà diciamo importante scaricare fondamentale diciamo scaricare la dichiarazione d'onore con il download farla firmare dal rappresentante legale in firma digitale se non è possibile anche in firma autografa e poi aggiungerla con il tasto add new aggiungerla al modulo di candidatura si può diciamo si possono anche caricare gli eventuali documenti strategici che avevamo visto prima nel background poi passiamo a questa sarebbe la diciamo la dichiarazione d'onore sarebbe il modulo che appunto dovreste poi compilare quello che più mi permette farvi vedere qui diciamo è il punto il punto 4 della dichiarazione d'onore che diciamo che la omissione l'ha inserito quest'anno questo punto 4 secondo il quale è appunto il rappresentante legale che firma la dichiarazione dell'onore è responsabile appunto dei contenuti dell'Erasmus Plan e che questi contenuti siano originali e che soprattutto nessun'altra organizzazione oppure un soggetto esterno è stato pagato per la stesura del form e della candidatura quindi si rafforza diciamo la commissione ribadisce la commissione europea ribadisce che l'ente non può delegare diciamo la gestione del progetto diciamo la gestione diciamo della sua anterezza nelle parti più importanti sostanziali alle organizzazioni o a soggetti esterni e in questo caso si parte proprio dalla stesura della candidatura diciamo il primo passo che l'ente o in questo caso appunto o l'organizzazione deve ridigere diciamo proprio basato sui propri bisogni sui propri obiettivi da raggiungere e quindi si ribadisce ancora una volta appunto che il rappresentante legale comunque deve garantire che questa funzione non sia fatta poi girata alle organizzazioni o soggetti esterni infine abbiamo la sezione checklist per procedere con la submission è necessario spuntare le tre caselle sopravvidenziate e a questo punto si può anche attivare una funzione sharing cioè condividere il modulo di candidatura con altre persone che lavorano presso il vostro ente e quindi che possono collaborare per la stesura della candidatura infine prima di effettuare la submission una volta terminata la compilazione si consiglia sempre di scaricare il modulo in pdf e magari tenerlo agli atti per tutta la durata appunto dell'accreditamento e una volta appunto per effettuare la submission dovete cliccare sul tasto submit che vedete in alto a destra nel cerchietto rosso se l'invio va a buon fine il messaggio di conferma avrete un messaggio di conferma vedete qua in basso a destra del successo appunto dell'invio nel caso non vada a buon fine dovete comunque contattarci vedremo un po' come risolvere quali problemi ha dato questa submission infine vi ricordo insomma che entro il mezzogiorno del giorno 19 ottobre 2021 è possibile in qualsiasi momento anche dopo la submission riaprire il modulo di candidatura modificare la candidatura ed effettuare di nuovo la submission il modulo è sempre disponibile nella vostra sezione my application quindi non dovete creare altri moduli ma prendere sempre il modulo che poi si aggiorna tutte le volte che voi riuscite ad andare alla compilazione sarà valida ovviamente l'ultima candidatura l'ultima web forma inviata entro la data di scadenza io ho concluso per ringrazio per l'attenzione adesso magari passiamo alle domande grazie Daniele ok allora abbiamo completato anche quest'ultima parte o mancavano ancora delle slide no mi confermi va bene faccio solo una un'osservazione un commento per quanto riguarda i fondi i fondi disponibili che appunto per la prima volta quest'anno c'è stato anche un avanzo di fondi su circa le richieste degli istituti accreditati quindi che poi abbiamo riversato su altre azioni in cui c'era maggiore competizione però così ecco rispetto ad anni passati in cui abbiamo avuto anche davvero un tasso di successo una success rate delle candidature fra il 10 e il 20% veramente una competizione durissima i fondi per fortuna appunto come avete visto sono aumentati sono aumentati nel corso del programma 2014-2020 negli anni successivi sono maggiori per questo programma chiaramente c'è stato un po' un momento di stallo di alcune delle attività di mobilità quindi ci sono stati degli avanzi dal programma precedente e quindi non sono neanche stati utilizzati tutti i fondi a disposizione per quest'anno e nei prossimi anni comunque ci sarà per ogni anno successivo da qui al 2027 un aumento poi alla fine anche i consistenti dei fondi a disposizione quindi ecco questo per per incoraggiarvi a partecipare diamo adesso le domande per le domande potete scrivere proprio nel nel riquadro Q&A mi raccomando non nella chat perché quella è un po' una chat così di servizio dove magari le informazioni si disperdono ecco intanto prendo un attimino io la parola ho visto che c'è già qualche domanda allora ci si chiede allora un ente che eroga servizi sociali e sanitari e che ha il proprio staff da mandare in mobilità ma ha anche un accreditamento alla formazione professionale può candidarsi per mandare in mobilità ai propri operatori di servizio alla persona allora se capisco bene qui abbiamo praticamente già un accreditamento in corso credo per VET quindi direi sì si può effettivamente chiedere un accreditamento in educazione degli adulti laddove il profilo dell'ente che è richiedente effettivamente sia in linea con l'educazione degli adulti che quindi eroghi servizi appunto di educazione degli adulti formale formale non formale si può fare ecco poi andiamo avanti salve presento sono Alessandro Casarrubia rispondo alla seconda domanda che leggo il codice ECAS corrisponde al PIC allora se per codice ECAS si intende LOID sì nel senso che il codice PIC era il codice precedente relativo alla normativa precedente che è un codice identificativo della scuola e che è stato inserito nell'ambito del programma ECASMUS precedente per le istituzioni che hanno già partecipato al programma ECASMUS e di conseguenza se c'è già stata una partecipazione il codice PIC ogni codice PIC è stato associato automaticamente al codice OI altrimenti se non c'è già stata una partecipazione al programma ECASMUS precedente si deve fare la richiesta ok con la procedura che è stata presentata prima dal collega Daniele Cardoncini potrete registrare la vostra organizzazione e quindi richiedere il codice OI che poi sarà necessario per procedere con la candidatura Poi vediamo Allora un'altra domanda è questa candidatura vale anche per i K1 dico bene non solo istruzione per adutti no questa è domanda specifica per l'istruzione per adutti perché si fa una domanda distinta per ogni settore ovvero noi prima abbiamo fatto una distinzione per esempio dal settore degli adulti c'è il settore scuola il settore formazione professionale e questa domanda ogni domanda si fa specifica per un settore preciso quindi se voi fate la domanda per i settori adulti se avete anche delle attività quindi la scuola organizza anche l'altro fuolo il CPI o l'ente in generale organizza delle attività che riguardano anche l'istruzione professionale che specifico l'istruzione professionale a parte che è una domanda che si presenta non all'agenzia nazionale Erasmus ma all'agenzia ma prevede anche un tipo diverso di attività attività che sono dirette al mondo del lavoro e professionalizzate invece il settore degli adulti è diverso riguarda più competenze di base e non è legato direttamente al mondo del lavoro ed è importante quindi specificare che se l'ente ha come dire attività nella sua organizzazione comprende anche attività che sono professionalizzanti oltre alle attività che rientrano nel settore degli adulti si possono presentare due domande distinte una per il settore vetta e una per il settore adulti però è importante specificare che questa è una domanda sì che rientra nell'azione che aveva uno ma stiamo parlando del settore adulti ok se poi ci sono poi la domanda vetta è una domanda indipendente ok è importante però ripeto una domanda per ogni settore una volta accreditati non si presenta più alcun progetto allora l'accreditamento è come abbiamo detto un accesso agevolato al finanziamento ovvero voi una volta che ricevete l'accreditamento ricevete un accesso al finanziamento che non è legato al singolo progetto ovvero se voi fate una candidatura che è legata un singolo progetto che per esempio il K122 per progetti a breve termine ogni singola candidatura per ogni singolo progetto richiede una valutazione formale una valutazione qualitativa approvazioni di budget insomma tutta una serie di passaggi amministrativi che si evitano nell'ambito dell'accreditamento perché una volta ottenuto l'accreditamento è sempre garantita una subvenzione per i progetti e i progetti quindi saranno poi riconosciuti nell'ambito dell'accreditamento e ogni progetto sarà riceverà una subvenzione ok poi ci saranno codice OID corrisponde a pic number sì ho già risposto quali attività sono previste oltre a job sharing sono state presentate prima dal collega nelle slide abbiamo sia attività di mobilità per staff che attività di mobilità per i discenti per lo staff abbiamo anche dei corsi di formazione per i discenti parliamo di mobilità di discenti in gruppo mobilità individuali ed è una grande novità rispetto all'anno scorso ovvero la possibilità di poter muovere anche discenti e non solo personale docenti appartengono a enti non accreditati hanno comunque modo di fare domanda di mobilità allora la domanda è istituzionale nel senso è fatta dalla scuola ok poi nell'ambito della candidatura una volta che questa sia approvata poi è la scuola che effettuerà la selezione dei discenti o dello staff quindi non è una domanda personale ok la domanda è fatta dall'istituzione organismi di formazione accreditati dalle regioni possono promuoversi come coordinatori di consorzio questa risposta la lascio a Chiara Borghi Chiara ci sei? Sì ci sono Alessandro bisognerebbe tu me la rileggessi però perché non riesco a ritrovarla grazie scusa mi aspetta se la ritrovo cioè se gli organismi accreditati alle regioni possono presentare domanda di accreditamento ok allora per quanto riguarda il settore EDA dovrebbe essere possibile noi facciamo sempre riferimento a quelle che sono le linee guida che i ministeri coinvolti hanno dato per la elegibilità formale degli enti appunto alla progettazione Erasmus li ritrovate sul nostro sito sono requisiti di ammissibilità a livello nazionale del 2020 quindi sono entrati in vigori all'inizio della nuova programmazione per quanto riguarda EDA infatti risolviamo fra gli enti elegibili anche le autorità pubbliche e locali regionali organismi di coordinamento e altre organizzazioni attive nel settore dell'istruzione degli adulti di tipo non professionalizzanti avendo un ruolo specifico attribuito in base alla legislazione regionale e o nazionale in particolare si potrebbero rientrare naturalmente dipende molto perché poi nelle linee guida ci sono delle specifiche piuttosto importanti con degli esempi anche concreti quindi sarebbe opportuno che ci venisse inviata una mail con la specifica proprio del tipo di ente che vuole presentare domanda magari con un riferimento anche allo statuto e quelle che sono le proprie le finalità appunto di svolgimento del proprio lavoro per capire all'interno di quale area possono appunto rientrare all'interno di quale area possono candidarsi io direi che è la soluzione migliore perché nel mondo era appunto sono tante le figure che si possono effettivamente muovere e i confini fra gli enti elegibili eccoci e i e i confini fra quelli che sono gli enti elegibili e gli enti non elegibili sono molto più molto meno definiti ecco rispetto a quello che è il settore scuola quindi direi in linea sì in pratica però è sicuramente più corretto che ci mandiate una mail indicando appunto la denominazione dell'ente le finalità del vostro lavoro eccetera per potervi dare una risposta più 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 precisa ci chiedono anche cosa si intende esattamente per discenti adulti studenti con più di 18 anni studenti frequentanti corsi serali persone che accedono a corsi per acquisire certificazioni dicenti adulti noi intendiamo tutte le persone che si qualificate come alunni studenti all'interno di enti erogatori istruzione per gli adulti ok quindi è chiaro se noi parliamo però di una scuola per esempio lo studente di una scuola non è considerato un dicente adulto ok cioè deve essere un istituto che eroga specificamente quella formazione e appunto per discenti adulto si intende colui che è l'equivalente dell'alunno nella scuola cioè ovvero il discente nell'ambito di quell'organizzazione è particolare nel programma nella domanda noi cioè si dà una particolare attenzione ai discenti adulti si dice con minore opportunità con minore opportunità si intende soprattutto discenti con competenze che diciamo sono carenti nelle competenze base infatti è proprio questo lo scopo cioè quello di fornire che è una delle competenze di base dare l'opportunità a tutti di appunto acquisire queste competenze di poter aprirsi e favorire lo sviluppo personale e anche l'inclusione sociale allora vediamo perdonami Alessandro c'era una domanda riguardo la call K122 che ricordiamo riguarda i short term e ci chiedevano appunto se c'è o meno la scadenza del 5 ottobre per noi ricordiamo che non c'è questa call per il 5 ottobre volevo ecco per inciso far presente questo prego chiedono anche se le visite preparatorie sono no scusate le visite preparatorie sono una novità per il K1 possono rientrare nell'organizzazione di un job shadowing sì possono essere effettuate per l'organizzazione insomma nell'ambito di un job shadowing certo ricordiamo non è un'attività di mobilità cioè servono a cominciare a stringere i rapporti con il partner con il quale poi si andrà a lavorare verso il quale poi saranno indirizzati i discenti o il personale importante però ricordare che nel caso dei corsi di formazione non è possibile organizzare visite preparatorie quindi specificamente nel caso dei corsi non è possibile nel caso del job shadowing sì allora per le scuole secondarie esiste una procedura di accreditamento simile sì ed è la procedura di accreditamento però per il settore scuola non per il settore adulti è analogo però è un settore diverso ecco ci c'è una domanda sono ammissibili anche società private che erogano corsi non professionalizzanti ad esempio lingue ed altro in linea di massima direi assolutamente sì società private che erogano corsi l'importante non siano professionalizzanti l'importante è che abbraccino ovviamente un pubblico assolutamente adulto allora il discorso è che diciamo la sfera non professionalizzante da quella professionalizzante molto cioè c'è un confine molto labile quindi bisogna vedere poi nello specifico di che cosa si occupa l'ente e se effettivamente è formalmente accettabile di solito ecco insomma se si volesse approfondire questo discorso ci si può anche sentire via mail per capire diciamo sempre più nello specifico quali sono questi corsi che eroga a questa azienda privata poi ci chiedono anche quali sono le scadenze annuali per l'invio dei progetti sicuramente per l'accreditamento la scadenza sono le ore 12 del 19 ottobre 2021 quindi mi raccomando una raccomandazione veramente molto calda è quella di non accalcarci tutti magari intorno gli ultimi giorni o comunque se possibile intorno all'ultima ora disponibile per poter inoltrare domanda perché magari avremo le linee intasate di solito insomma la domanda si inoltre sempre un pochino all'ultimo purtroppo quindi se si potesse evitare sarebbe meglio ma la scadenza assolutamente il 19 ottobre 2021 domanda in fase di progettazione per job shadowing è necessario indicare i partners in fase di progettazione sì però ecco ripeto come dicevo prima si distingue bene l'accreditamento da quello che poi è il progetto che si fa nell'ambito dell'accreditamento cioè in questo caso per esempio nel caso dell'accreditamento nel modulo di candidatura come si diceva prima non si indicano precisamente i consorzi specifici con cui si opererà o il numero preciso di vicenda cioè tutte le informazioni date riferite ai membri di consorzio o persone che accederanno alle mobilità sono percorsi informazioni indicative che poi possono subire aggiornamenti nel corso del programma abbiamo visto anzi devono perché un aggiornamento del piano Erasmus come si diceva il cuore tutto il documento su cui poi si devono basare i vari progetti va aggiornato almeno una volta ogni 5 anni e poi nell'ambito della progettazione del progetto accreditato allora sì chiaramente lì essendo un progetto specifico si dovranno poi indicare i partner verso i quali poi si indirizzeranno in questo caso il personale per le attività di job shadowing ricordo è affiancamento lavorativo è una precisazione su questo Alessandro complessamente anche della risposta che hai dato prima ogni anno gli enti accreditati potranno presentare proprio una domanda di finanziamento su uno specifico modulo di candidatura chiamiamolo così presumibilmente la scadenza sarà ogni anno verso febbraio marzo è l'azione K121 di cui appunto parlano dei colleghi nelle domande e appunto è che la richiesta finanziaria per gli enti che hanno ottenuto un accreditamento solo per puntualizzare la data presumibilmente sarà verso marzo appunto giustamente Chiara sottolineava non abbiamo ancora la certezza perché di quando poi la commissione europea effettivamente emetterà la prossima call e di quando saranno le scadenze diciamo che questo è stato un anno particolare in cui c'è stato un ritardo dovuto al lancio del nuovo programma che comportava su una serie di passaggi istituzionali e all'impatto del covid su tutta la programmazione europea che ha portato altre priorità diciamo ma pensiamo che ragionevolmente già dal prossimo anno ci si riallinerà sulle scadenze che erano quelle classiche e quindi uscita della call presumiamo in ottobre novembre e poi le scadenze per la chiave uno diciamo in febbraio e per la chiave due in marzo quindi fra le scadenze delle chiave uno rientra a quel punto anche la richiesta delle mobilità e del budget necessario ecco pensiamo ragionevolmente che sarà questo che saranno queste le tempistiche la domanda è l'ente che partecipo come partner di un ente accreditato deve a sua volta essere un ente accreditato se per ente che partecipo come partner intendete un consorziato no ok c'è l'accreditamento nel caso del consorzio la domanda viene presentata la domanda viene presentata dal coordinatore di consorzio che poi sarà il diretto interlocutore cioè sarà praticamente l'ente che avrà i rapporti diretti con l'agenzia gestirà i fondi e gestirà anche i progetti ai quali poi potranno partecipare sia personale vicenti dell'istituto coordinatore che poi direi soprattutto personale vicenti degli istituti consorziati però no gli istituti consorziati non devono avere un accreditamento la domanda di accreditamento è inoltrata dall'ente coordinatore poi intanto appunto mentre i colleghi seguono il filo delle domande vedo che c'era anche un'altra che riguardava la possibilità di accompagnare il gruppo di discenti e non solo è possibile ma anzi è proprio un requisito per la mobilità di per le mobilità di gruppo dei discenti adulti che ci sia un accompagnatore come pure di curare ovviamente tutta la il processo della selezione che siano effettuate con criteri trasparenti che sia fatta informazione a tutti per vedere quali effettivamente poi le persone vogliono partecipare insomma curare la preparazione dall'aspetto linguistico eccetera insomma e poi accompagnare poi che ci sia insomma appunto delle persone di riferimento anche nel di accoglienza eccetera insomma ci sono delle indicazioni ben precise riguardo alla domanda potete fare un esempio di persona con bassi competenze beh insomma può così ma nel senso possono essere scarsi competenze di capacità di lettura di scrittura di calcolo insomma quelli che sono le competenze chiave ormai note dell'Unione Europea le otto competenze quindi in particolare appunto lingua madre comprensione del testo eccetera e di calcolo sono basse competenze per quanto riguarda appunto invece le basse qualifiche sono tutte le persone che non hanno ottenuto un diploma di istruzione secondaria superiore e quindi o successive comunque trovate poi appunto questa la definizione anche sul nostro sito e sui moduli informativi altre domande avete letto c'era una domanda sul calcolo del budget per i progetti approvati è un calcolo abbastanza complesso nel senso che nel momento in cui viene richiesto l'accreditamento già l'agenzia ha un'idea di quanto budget dovrà accantonare per poter finanziare eventuali progetti 121 negli anni futuri quindi diciamo già l'agenzia può fare in prima battuta dopo aver analizzato gli accreditamenti che verranno approvati un preventivo di spesa chiamiamolo così per il 2022 2023 eccetera naturalmente poi questo dovrà attuarsi in base anche a quelli che sono i finanziamenti che verranno dati dalla commissione europea per i vari settori per cui l'agenzia nazionale ha già chiaro quanto potrà essere un eventuale budget da dover destinare alle richieste di finanziamento 121 eda che verranno presentate dai progetti accreditati per il 2020 e per il 2021 naturalmente poi dipenderà appunto dai fondi disponibili adesso probabilmente non vi rendete conto neanche di quanto possa essere un finanziamento che viene destinato ai singoli progetti perché appunto nel modulo dell'accreditamento di fatto non viene richiesto un budget vengono richieste delle attività vi sarà tutto molto più chiaro nel momento in cui effettivamente andrete a attuare la richiesta di finanziamento e vedrete che poi il modulo tradusce quelle che sono le attività che voi avete messo in preventivo per nel modulo di accreditamento traduce appunto queste attività in una richiesta finanziaria ben precisa e ben determinata per eda quest'anno per esempio la situazione è stata molto molto semplice anche da gestire nel senso che con i finanziamenti messi a disposizione dalla commissione europea l'agenzia è riuscita a coprire tutte le richieste dei K 121 ovvero tutte le richieste finanziarie degli accreditamenti che abbiamo concesso nel 2020 quindi insomma dipende da tanti fattori a questo calcolo del budget ora come ora risulta molto aleatorio ma poi vedrete si concretizza ecco Sì infatti grazie Chiara insomma questo aiuta un po' appunto come dicevo prima abbiamo avuto addirittura un avanzo di fondi che poi sono stati ridistribuiti volevo anche rispondere a ho visto in più punti giustamente capisco la domanda su quando usciranno i risultati dell'azione K 122 vi garantisco che l'agenzia sta lavorando insomma a pieno ritmo su questo in corso la valutazione del budget però purtroppo anche qui come in numerose fasi precedenti ci sono stati anche dei problemi dei bug dei proprio sui tools sugli strumenti informatici della gestione del programma della commissione perché appunto è tutto nuovo è cambiato completamente il sistema e ancora insomma quindi stiamo un po' lottando contro questo e contro il tempo noi speriamo insomma di poterli pubblicare e finalizzare entro breve e possibilmente anche prima della scadenza per l'accreditamento magari per giudicare per voi se è il caso di proporre però io sentirei di dirvi anche che voi potete fare una richiesta appunto di accreditamento con un'indicazione di attività e di mobilità per ogni anno ma poi valuterete appunto al momento della scadenza del prossimo anno se effettivamente fare questa richiesta o meno quindi se nel caso magari invece abbiate avuto l'approvazione di un altro progetto no anche quest'anno appunto non tutti gli enti accreditati hanno fatto poi effettivamente una richiesta di mobilità ecco quindi non è potete fare anche un anno di stand by fare passi insomma c'è una domanda che chiedono qual è il ruolo delle organizzazioni di supporto nella progettazione e come possono ottenere i contributi per le attività di supporto allora come diceva prima l'organizzazione di supporto deve avere solo ruolo ausiliario qui non deve rientrare nella progettazione assolutamente la progettazione è un'attività fondamentale del progetto ok quindi assolutamente come la progettazione come la gestione finanziaria non deve assolutamente essere gestita da organizzazioni di supporto le quali devono apportare solo un valore aggiunto ausiliario che però non deve comportare nessuna attività fondamentale per quello che riguarda i contributi non c'è un contributo specifico per le organizzazioni di supporto fornito dalle case ok i contributi sono riferiti solo alle attività non all'organizzazione di supporto allora poi ci sono due domande allora come trovare destinazioni enti accoglienti per il job shadowing ci sono tipo dei tipi di corsi che potrebbero essere esclusi dal bando Lorenza lascio a te questa penso riguardi l'epale anche si appunto puoi ripetere un attimo per favore si subito come trovare destinazioni enti accoglienti del job shadowing ci sono dei tipi di corsi che potrebbero essere esclusi dal bando si appunto abbiamo visto prima con con epale è uno dei possibili strumenti di ricerca dove proprio mettersi in contatto con organizzazioni simili alle vostre di altri paesi per organizzare un job shadowing e fondamentalmente questo poi insomma da contatti precedenti da non lo so insomma forum altri per quanto riguarda i corsi strutturati invece c'è anche un altro portale che poi school education gateway che in realtà è come dici il nome destinato in principio al mondo della scuola però non essendoci al momento ancora un altro portale perché appunto è su epale la sezione del catalogo dei corsi è ancora in allestimento quindi non essendoci un altro portale di riferimento è stato utilizzato anche lo school education gateway anche per il settore dell'educazione degli adulti e c'era poi un'altra domanda su epale diceva come ho pubblicato un blog come faccio a farlo tradurre in inglese su questo direi che si metta in contatto con i miei colleghi per organizzare può scrivere alla la cosa migliore è scrivere una mail a epale chiocciola indire punto it e così insomma organizziamo la cosa vedo una domanda non so se la vedete anche voi una persona chiede come fare se si ha una situazione instabile da un punto di vista gestionale per cui è difficile fare previsioni di una mobilità a lungo termine mi pare non si sia risposta a questa domanda forse la cosa migliore in questo caso è rimandare al prossimo anno la candidatura per accreditamento e invece provare a proporre alle scadenze appunto di febbraio marzo un progetto più piccolo che preveda una mobilità più limitata quindi massimo 30 mobilità per un periodo di tempo molto più limitato quindi un progetto che arriva a 18 mesi quindi forse vi conviene ecco in situazioni simili a questa optare per fare una candidatura per la 122 piuttosto che una candidatura per l'appreditamento che comunque necessita di un piano di mobilità a lungo termine di mobilità specifiche magari su queste insomma ci risentiamo privatamente però quella per esempio ho visto Mariella, Mariella Ciani che chiede appunto per quanto riguarda Unieda, Unieda se può fare una candidatura come consorzio insomma appunto stavamo valutando proprio con i colleghi perché appunto la candidatura come consorzio prevede insomma determinati requisiti ecco magari su questo ci risentiamo a breve. Una domanda è sui discenti adulti possono partecipare operatori assunti all'interno di un servizio o di un ufficio? Persone che vogliono apprendere nuove competenze spendibili dentro l'ufficio stesso e se sono assunte nell'ambito dell'istituzione che fa la domanda certo. Si tratta di mobilità del personale Però in specifico nel caso in cui si parla di dipendenti dell'istituto che devono avere un contratto ben definito. Esatto si aggiungerei che comunque c'è sempre un legame formale che deve essere diciamo dichiarato ecco in maniera altrettanto formale tra quelli che sono poi le persone che arriveranno alle mobilità e l'organizzazione mandante. Vedo ci sono anche alcune domande relative alla K2 in particolare appunto se presentare una candidatura per un accreditamento K1 preclude la possibilità poi di presentare invece un progetto K2. assolutamente no si tratta di due azioni completamente diverse per cui è possibile ecco anche presentare una domanda di accreditamento e in futuro la prossima scadenza anche un progetto di partenariato K2 ecco sono proprio due due canali di finanziamento distinti che hanno obiettivi e finalità diverse. Perdonatemi Allora leggo un'altra domanda ci sarà una prossima futura finestra per l'accreditamento? Allora la scadenza per l'accreditamento? educazione degli adulti azione chiave 1 a cadenza 19 ottobre ci sarà poi successivamente come diceva appunto la collega Chiara e appunto la Lorenza Venturi ci sarà poi successivamente un'altra call ma non per l'accreditamento ma magari per dare vita ad un progetto che sia un po' più breve che è appunto il progetto che raccoglie appunto il canale 122 progetti di breve termine ok a breve durata e quindi di fatto ecco entrare a far parte cioè chiedere l'accreditamento la scadenza 19 ottobre oppure successivamente c'è anche la finestra di poter far parte per esempio di un consorzio e magari si trova una realtà che perseguita gli stessi vostri obiettivi comunque avete gli stessi interessi potete condividerli e quindi potreste anche entrare a far parte di una rete quale il consorzio questo è un altro modo per diciamo subentrare all'accreditamento ecco quanto riguarda invece la chiave 2 vedo che c'è una domanda se ci saranno altre call e info day vi segnalo appunto la possibilità di candidarsi per l'azione chiave 210 cioè i partenariati di breve durata e la scadenza è il 3 di novembre e ci sarà un info day per il settore dell'educazione degli adulti il prossimo primo di ottobre confermatemi se non sì direi di sì senz'altro per la data sempre in questo orario sempre con queste modalità quindi primo ottobre dalle 14.30 alle 17 non so se è stato già pubblicato sul nostro sito ma non lo è stato ancora lo sarà fra oggi domani insomma per i partenariati di piccola scala azione chiave 210 per tutte le altre scadenze invece si va al prossimo bando e al prossimo anno c'è un'altra domanda interessante su scipia nell'ambito delle scuole secondarie si possono proporre solo i scipia provinciali sì assolutamente sono appunto erogatori di corsi per adulti direi assolutamente approvati c'è una domanda anche rispetto ai tempi di risposta delle agenzie nazionali alle alle candidature per l'accreditamento allora in teoria noi dovremmo essere in grado di dare una risposta se l'accreditamento è stato meno accolto e concesso in pochi mesi sicuramente dobbiamo farlo prima della scadenza in cui gli enti accreditati devono presentare la richiesta di finanziamento per cui se la scadenza è adesso il 19 ottobre io spererei che entro dicembre massimo gennaio voi abbiate una risposta sul fatto appunto di avere ricevuto meno l'accreditamento presumibilmente appunto si dicevano le scadenze per il 121 e per il 122 sarà febbraio marzo per cui avrete comunque il tempo di presentare una richiesta di finanziamento 121 nel caso in cui l'accreditamento sia stato approvato oppure sentare appunto magari per quest'anno una candidatura di 122 quindi un progetto a breve termine se l'accreditamento non vi è stato appunto accettato anche perché per concludere quello che Marilena vi diceva prima sull'accreditamento la prossima scadenza per richiedere un accreditamento sarà presumibilmente ottobre 2022 ecco quindi nel frattempo forse chi non ha ricevuto un accreditamento può tentare tranquillamente di lavorare su un progetto a breve termine un'altra domanda ai discenti con basse competenze di base che affrontano una mobilità singola o di gruppo potrebbero essere accompagnati da un docente esempio nei CIPIA sicuramente nel caso delle mobilità di gruppo non solo possono o devono essere accompagnati nel caso delle mobilità di gruppo nel caso delle mobilità singole chiedo conferma anche agli altri oleghi però ci vuole una giustificazione che deve essere motivato dall'accompagnamento nel caso delle singole devono esserci gli accompagnatori però nel caso delle mobilità di gruppo sì esatto per le mobilità di gruppo dei discenti è obbligatorio quindi su questo non si discute nel caso di mobilità individuale dei discenti invece diciamo la mobilità si dovrebbe svolgere senza l'accompagnatore se non in casi particolari come per esempio in caso di minore opportunità quindi quella poi è una richiesta che deve essere valutata dall'agenzia nazionale un'altra domanda è un'impresa privata può far partecipare i suoi dipendenti perché acquisiscano nuove competenze e questa partecipazione deve essere inserita in un più ampio corso formativo nel senso l'impresa privata nel caso in cui però questa impresa è eroghi istruzione per adulti possibile chiedo conferma in questo caso assolutamente sì Alessandro ti confermo anzitutto l'ente deve occuparsi appunto di educazione degli adulti ormai è diventato un mantra e può inviare i propri dipendenti insomma in mobilità assolutamente sì nel senso sulla base di un piano Erasmus dove avrete già chiari quelli che sono gli obiettivi quali sono le attività diciamo da realizzare per il perseguimento appunto di questi obiettivi quali sono i profili anche individuati direi pienamente sì anche perché l'azione chiave 1 è proprio cioè riguarda assolutamente mobilità dello staff e poi la grande novità è anche la mobilità appunto dei discenti adulti laddove ce ne sia possibilità con particolare attenzione ai discenti con minori opportunità il valore aggiunto ha portato da uno staff che comunque implementa delle attività che vanno a soddisfare gli obiettivi cioè l'abbiamo detto prima anche durante la presentazione si individuano quelli che sono i punti magari di debolezza di un'organizzazione i punti che si vogliono sviluppare meglio portare una dimensione anche internazionale internazionale sì o internazionalizzata magari all'interno dell'organizzazione dell'ente con delle attività di mobilità dove prenderanno parte presumibilmente lo staff e di scienze adulti se c'è la presenza ovviamente queste attività cioè il progetto di per sé la mobilità e avrà delle ricadute poi all'interno anche dell'organizzazione stessa quindi ovviamente direi sì approvatissimo possono partire le persone dello staff ok siamo arrivati alle alle 5 e 10 praticamente avevamo previsto una chiusura alle 5 non so se c'è ancora forse una domanda o due a cui che avete individuato a cui possiamo rispondere se no ci siamo più o meno giunti al termine del nostro incontro vi ricordo comunque che l'agenzia è a vostra disposizione il canale che vi suggerisco è la mail perché si telefoni ci sono c'è un orario di test telefonico ma chiaramente poi anche sotto scadenza è abbastanza preso d'assalto mentre insomma con una mail vi rispondiamo insomma entro 24 ore o giù di lì sentirei senz'altro quindi è una rapida risposta e se Marilena hai modo di ricondividere la slide con i contatti magari ecco mentre chiudiamo così li ritrovate comunque sullo nostro sito il cui indirizzo internet è erasmusplus.it trovate tutte le informazioni tutti i contatti e tutti gli approfondimenti Io ringrazio i colleghi dell'agenzia per questa giornata ringrazio voi per l'attenzione e per averci seguito fin qui sappiamo che insomma non è semplicissimo c'è da passare attraverso una serie di tecnicismi dall'idea dall'entusiasmo progettuale per poi tradurre in pratica c'è da appunto utilizzare poi i tools ma anche su quello gli strumenti informatici vi abbiamo fornito un po' di spero di informazioni ma comunque potete trovare supporto nell'agenzia come già vi è stato detto per inviare la candidatura non attendete le ultime ore perché il sistema poi insomma ci sono candidature da tutta Europa può andare in sovraccarico quindi rischiate poi di sporare l'orario e prendetevi insomma meglio il giorno prima e niente per il resto ci risentiamo vi ricordo appunto per chi è interessato il prossimo infodei del primo di ottobre grazie e buona serata a tutti grazie 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 grazie